oh no vabbè allora facciamola meno cringe perché sennò non ha senso ciao ragazzi you are welcome in this new live streaming with the day with the day buongiorno raga comunque continuo a sentirti il basso e sta cosa non la capisco mi sto incagliando alzati il volume del mic dai livelli del mixer infatti adesso raffanino allora aspetta che sto cercando al tasto ciao ragazzi buongiorno a tutti buongiorno sono dei tre ma vabbè ah no questo qua è il voice activate no no dal pannello del pannello dell'aula no no ma spera perché mi sa che mi aveva preso oh com'è così come mi senti ugualo qua a posto benissimo ciao ragazzi buongiorno a tutti buongiorno raga ciao raga come stiamo allora allora fammi una cosa seria ora adesso iniziamo con the forest la seconda parte di questa incredibile avventura che abbiamo fatto la prima volta faccio solo una mini premessa proprio mini minuscola minuscola non mi sento informissima oggi quindi se mi vedete un po' così e per questo motivo non sono pienamente on the top on the corner stavo capendo io vabbè no sai che forse neanche il mio inglese lo è ma quello è un altro discorso non sono non sono over the top quindi è normale se mi vedete un po' tipo mezzo così mezzo giù non sono on the top quello che ho detto prima giusto ma adesso l'ho detto sbagliato quindi io on the top non sto trovando vabbè allora ti alzo io senti parla di due cose grazie a ti grazie grazie no perché stavo in passione ah tipo dico aaaah svegna aaaah poi non posso continuare aaaah sardegna non vedo l'ora di andare bravo ci siamo ti ho alzato giusto boys eccola non la trovavo la live eccoci eccoci ragazzi ho aperto adesso la chat tutti quanti allora ah no aspetta non ho messo lo stream deck bella nicola bella a tutti raga bella a tutti bella a tutti bentrovati oggi su the forest dobbiamo andare avanti eh laddi dobbiamo veramente scassare tutto eh un attimo che avvio lo stream no 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 io sono già dentro ah stai già picchiando tutti sì 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 la D è carico Andrea aaaah tanti auguri per la communion grazie da donations ciao caro eeeh lo hai fatta la comunione D certo lo fa l'hai fatta anche io anch'io io sì 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 l'ho fatta l'ho fatta mi stavo ricordando con le impostazioni audio io l'ho detto ma non lo fa la D perché voi non riesco a trovare le impostazioni audio raga che cazzo no ma adesso mi sento ok a posto se riuscite a mettere lo stream deck parto su ah tra l'altro sa me di cosa ho visto ah eccolo cosa ho visto ah provo a alzare provo a alzare vedi com'è eh è già il massimo ok allora posto dai ma non ho adesso ti preoccupa va bene meno male meno male se no alzo io il volume non so il motivo vabbè ma non mi è partito lo devo stringere cioè dovrei riavviare il computer vabbè posso fare eh vabbè sembra un po' eccessivo ma lo posso fare ho pensato Nicola Pasetto aspetta ragazzi che almeno partiamo da dio che se no ho un pezzo in meno no vabbè dai riavvio riavvio il pc eh riavviamo il pc dai dovrebbe tenersi la live oh tra l'altro regà ho visto un gioco oggi su facebook tra l'altro aspetta forse non sentite più la D io non ti sento ovviamente però posso parlare cioè la live continua anche se non anche se sto riavviando il computer la D io non ti sento più non so se stai parlando se ti senti calcio tv welcome in the gioco magari non so se ti si sente di quindi aspetta vediamo se di qualcosa vediamo se si muove la sorgente no non ti si sente quindi inutile sto parlando da troppo vabbè fortunatamente avere una live con due pc quando non funziona qualcosa la live rimane sempre online quindi questa è una delle positività ci riavviato ecco qua adesso dovrebbe partire ogni tanto ok così almeno siamo settati al 300% c'è il bacendo ok vediamo se parte all right la D eccolo ecco qua ecco qua è partito tutto perfetto a posto meno male funziona tutto ragazzi avvio giui gi gi io stavo dicendo prima prima che esplodesse tutto che oggi ho visto un nuovo gioco su facebook tra l'altro random mi è comparsa la pubblicità è tipo un survival così tipo the forest almeno dai 20 secondi che ho visto come si chiama? ma ambientato non mi ricordo bene cavolo ambientato tipo oddio dove fa freddissimo come si chiama? alaska siberia ecco ti bravo tipo quei posti lì tipo quei posti lì antartide antartide bravo non mi veniva il nome bravissimo artide o antartide adesso mi chiedi troppo dove stanno i pinguini dove stanno gli orsi polari? anche a casa mia quando scessa all'inverno comunque ragazzi valerio benvenuto in giacomo valerio welcome in giacomo scusami stavo concentrato ma avevo visto welcome in giacomo ho fatto hernand ho fatto ho fatto ho trovato dimmi che gioco è che lo guardo un attimo saldi estivi per gli horror ci sono i saldi i saldi estivi non ha saputo sta roba sono un sacco di giochini in sconto dopo ci do una bella occhiata ragazzi little hope non l'ho fatto molto carino dovrebbe essere goodbye con l'antartica farai the forest 2 beh sopravvive the forest è un survival ovviamente quindi è sotto i survival vediamo a sisco survival o horror green hell no non è quello però quello che stai dicendo tu no no ma non mi ricordo ma green hell non è online quello è il problema ma mi è apparso nella home mi è apparso nella home di facebook ma sai quando lo guardi tipo per 20 secondi ma non leggi neanche il titolo cos'è così a me green hell ragazzi ha spopolato green hell in questo periodo ma io l'avevo giocato tre anni fa almeno non lo so da quanto quanto tempo fa però non non mi aveva preso così tanto sinceramente cioè eppure piace tanto green hell potremmo provare anche a fare rust noi è vero è vero no raft scusami non raft anche raft in realtà non è una cosa raft non so che cos'è raft è molto bello valentina grazie mille per a donation broski si si cazzo dico pure io scusami e poi c'è un altro carino sconto che prendo subito the hunter call of the wild è giusto perché in realtà era diego non era valentina però va bene prendilo io lo prendo questo te lo prendo anche a te quale the hunter call of the wild lo facciamo magari dopo allora vediamo un po' il mega scondo costa 4 euro lo prenderei deve essere carino vediamo vuoi riportare a way out con ciccio ragazzi a way out se va rifatto va rifatto tipo in live non va bene secondo me rifarlo in video perché sai che me lo segno che l'ho preso che poi l'ho comprato mi ricordo di no vabbè bellissimo questo bro andiamo a caccia infatti è molto carino dopo le forest facciamo questo vai te lo prendo vai 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 volendieri volendieri allora torno al negozio te lo prendo in vista mamma mia che bello subito acquista come dono niente acquista come donuts ciao giulia ciao sister tutto bene adesso partiamo eh raga stavo solo facendo un paio di greetings in apertura per poi cominciare mamma mia quanto ne sai bro vabbè mamma mia fu solo questa però allora aspetta che call of the wild dove caccia mi vede le raft che non mi ricordo che cos'è bello è che ho scritto raft in via e mi ha cancellato raft vabbè ma se call of duty è cod call of the wild è cow mucca acquista come dono potrebbe avere senso ah ho capito qual è la d regala alla d nome del destinatario la d messaggio del dono la d la sua firma la d l'altra d l'altra team lo sai nei nostri auguri grazie bro prego e insomma ce l'avete questo granite lo porterò comunque per forza solo per le troppe richieste non sono fan di granny perché granny non mi ha mai fatto impazzire oh qualcuno mi ha fatto un regalo chissà chi è chi è la d virgola la d auguri virgola l'altra d cazzo sto vedendo bellissimo valentina certo ah diego ti saluto certo caro grazie la donation raga partiamo let's start scusami ma quanto pesa quanto pesa 60 giga chi eh scarica inizia a scaricare per la volta dopo 60 giga di gioco quello lì mi sembra un po' eccessivo ma mi sembrava un gioco da 300 mega onestamente comunque va bene si vede si sente tutto multiplayer host game continue oh santo iddio ma dov'è no ci no vabbè ti prego ci sono partite del 2016 ma cosa chi no te lo gioco sto scherzando ma c'è chi in italiano scusa in che senso no scusatemi ci sono dei save game del 2016 voglio vedere che cazzo è perdonatemi ho bisogno di vederla no vabbè bro mi hai svoltato la vita cosa c'è l'italiano ma infatti stavo ma non lo sapevo mai nella vita 28 fattori questo è il 7 allora no perché sono svuappati giorni e mesi quindi questo è il 7 dicembre questo è il 28 aprile 2016 scusate ma solo per curiosità voglio solo vedere che cacchio è dicono le partite con leonardo sì sì sicuramente una di quei no no con leonardo era lui che ostava mi ricordo io perché ero entrato se vi ricordate nel video ero entrato nella sua partita dove gli si è demolita la casa e quindi è il suo mondo dove cacchio sono ho visto quella clip dovete andarvela a recuperare perché è veramente troppo divertente ma dai che storia ho riaperto ma che storia 5 anni fa però hai una casa sull'albero veramente bella comunque ma solo questa che roba quando riapri il salvataggio di pokemon dopo un miliardo di anni vedi che gioco ma ci avevo ora è quasi all'82 dico comunque molto figo adesso mi dirà che il salvataggio è del 2021 vabbè pensai che una volta hai riaperto il salvataggio di animal crossing dopo 10 anni ho fatto anche un video madonna orgoglioso sì 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 a farti il tifo no io non penso di aver riaperto un salvataggio dopo così tanto tempo onestamente 10 anni sono tantissimi sono tanti poca miseria invita amici la D eccomi continua let's go let's go allora ragazzi siamo eravamo rimasti eravamo rimasti eravamo rimasti abbiamo queste 4 orette e mezza no 5 orette o meno per per tirare fuori un gameplay bellissimo per riuscire a finire dobbiamo finirlo oggi quindi il nostro obiettivo è finirlo oggi sì aspetta che ok mi sposto un attimo perché sono decent no io vorrei finirlo sì 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 allora quale sensibilità me lo stai dicendo zio ho messo i punti interrogativo al finale perché giustamente se non ha live non so cosa che succederà però succederà però comunque abbiamo il villaggio più bello di tutta The Forest però buttiamoci due stecchettili allora vediamo un attimo se qui in italiano test e bastoncini sto male raccogli test hai fame trova qualcosa da mangiare posso chiccare fighissimo chiamiamo globo aspetta un attimo che devo capire un secondo vai vai tranquillo che cacchio erano i tasti ok circuito sta no vabbè ma in italiano ragazzi io perché lo gioco no è bellissimo sto male cioè noi l'abbiamo giocato l'altra volta in inglese io non capivo niente invece ci dobbiamo schidare così la D allora pensiamo buttiamo un po' di soldi nel fuoco lì per alimentare allora come si è messi che non mi ricordo abbiamo sta casa della madonna cioè l'accampamento l'accampamento della madonna scusatemelo però ci manca allora vediamo come si è messi d'armatura niente allora D nel frattempo che tu controlli lì io faccio qualcosa da magnà perché il mio personaggio sta a morire non mi ricordo ah avevamo trovato il pezzo giocattolo rotto c'ho tra l'altro avevamo trovato il pezzo giocattolo di timmi se trovo un altro pezzo lo combino a cosa serve a cosa serve il giocattolo di timmi ragazzi scusate e poi avevamo creato la l'esplosivo che sta qua ah è vero bravissimo l'ho dimenticato si si che stanno qua ne ho fatti due eh abbiamo trovato un pezzo della pistola dove cacchio è vero perché avevano fatto esplodere l'ambro perché mi sta a parte due di otto tra l'altro era un po' difficile trovarle sai cosa farei io andrei andrei dall'altra parte perché non mi ricordo come si faceva l'esplosivo mi sa che non ne posso fare un altro aspetta un attimo ma senti anche una cosa potremmo anche recuperare gli altri sei pezzi della pistola esatto è quello che ti voglio dire io vorrei bravo latti mamma mia quanto mi gatti esatto mamma mia mamma oddio ho visto no vabbè ho visto una cosa incredibile clippate clippatela vi prego ho trovato la colazione D ma l'ho trovata in una maniera che non esiste cioè ho visto sto gabbiano proprio passare dentro il legno vabbè grande cucina 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 io di tra l'altro continua non piovere mai in questo posto perché i nostri gusci sono sempre vuoti ma io ho bevuto le ultime le ultime volte mi sa che l'ho finita io l'acqua D l'ultima volta ho bevuto la D qua abbiamo fatto ragazzi per chi non avesse visto la prima parte abbiamo fatto le robe per raccogliere l'acqua il tavolo per manià tre panchine siamo in due il coso per stendere i pesci questo qua puoi appoggiare l'ascia le robe le armi come sai che puoi mettere anche la bomboletta spray ah ti ricordi la bomboletta spray si si mi hai dato fuoco 18.000 volte no 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 io scappo nel dubbio guarda mi devo ricordare allora lo strumento di riparazione ok mi devo ricordare che cosa c'è soprattutto qual è il cosa ho fatto qual è il tasto per per abbonarsi per scelta rapida per abbonarsi c'è anche il tasto qua sotto ragazzi c'è il tasto abbonati vicino al tasto di estivity se volete provare i vari perks ci sono i vari persi da scegliere allora super chat o il super sticker volevo dire oh guarda che è cresciuta l'erba cosa cosa mangiamo io eh io me la manierei anche io pochetti tra l'altro la mangio e mi scende il coso non è possibile ok però questa è safe è tipo il sedano che consumi più calorie a mangiarlo e digerirlo che quelle che ha sola davvero sì 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 sono i tipo i troll della natura capito tu vedi un bel sedano lì c'è la natura quanto hai di stomaco eh ma nella realtà no guarda il gioco ah son full son full anche io nella realtà invece nella realtà sono proprio empty bro cacchio eh allora chi lo mangia questo magna 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 tu magna tu già mangiato vabbè magna ma va bene qua ci sono le medicine l'add ma non vorrei usare le medicine allora ci prepariamo per una spedizione però io sono carichissimo ma allora una lattina a testa giusto ah fa vedere cosa c'è nell'inventario possiamo lasciare allora io ho un miliardo di bengala stoffa ne ho 100 ho 130 stoffe non so se è chiaro esagerato tanica di carburante rifornisce la motosega quale motosega si possono troppare gli oggetti che non mi ricordo io mi sto facendo le corazze di nel frattempo abbiamo un botto di roba io ho paura di morire per perdere quello che ho fatto eh più che altro non si può manco lasciare sta roba capito prendiamone due a testa due lattine a testa due medicina a testa snack direi due a testa ok l'alcol anche tre mamma mia questo è il briefing preparato le partenze ci siamo let's go allora aspetta che io dovrei trovarmi ho messa abbiamo le armi qua vero ok allora che ne prendo una bella bella sta mazza trottinata in testa grazie infatti diciamo cosa che ho adottato comunque sta mazza è fatta con un osso un serpente delle mani che tengono un test c'è veramente una roba incredibile grazie e welcome in the giacomo silenzio scenico giustamente ah già mancavano le due ah no aspetta mancavano le tre teste per finire sta roba incredita l'altro abbiamo fatto il number one subito è bellissimo secondo come era il progetto no volevo vedere volevo vedere in italiano come il ah il cosi va bene signori mi se ne frega di sta pioendo sta incominciando a piovere acqua acqua gratis a posto vamo volevo dire allora non ci manca niente se non tre teste quindi andiamo a fare due passi proprio limite cerchiamo qualche indigeno cerchiamo qualche indizio qualche indigeno a destra vi fidati perché a sinistra abbiamo già guardato un bel po' mi fido mi fido mi fido ci chiamo qualche indigeno mentre li rubiamo la testa e ce ne andiamo li rubiamo la testa scusi ma le serve quella ce l'ha mai allora io devo prendermi anche un po' di pausa ho cercato e devi premere due tre quattro cinque e te le mettere nella scelta rapida eh ma io ho provato a fare sta roba l'altra volta e mi ha bevuto tipo una lattina si è vero non vorrei fare sta cagata qua capito venga c'hai ragione broschi mi son dimenticato io di avvisare le ragazze quindi non hanno fatto il posto è colpa mia chiedo scudo oh oh che è successo non le hai sentite si urla devastanti venga c'hai ragione hai ragione caro scusatemi allora il discorso però spezzando la lancia in favore della D sono giorni un po' così perché appunto io non sto proprio al top anche di per di non sto al top quindi sto cercando di di fare le cose appena 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 riesco questo martedì siccome ci sono tante cose da fare ho detto non facciamo la live pomeridiana e la facciamo questa domenica così magari ci sono bro è arrivato è arrivato Vegeta scusami è arrivato Vegeta ecco ha tipo sette braccia dietro la schiena non è Machamp tipo è qua davanti a me bro mi stavo urlando mi stavo urlando malissimo gore c'è mo ci servono hai mille braccia ma noi ci servono mille teste io non hai più i tendini fidati non puoi stare in piedi Alessandro thank you so much for the donation schiatta maledizione maledetto indigio alessandro welcome in the no welcome c'è un altro c'è un altro che sta correndo scusatemi scusami se lo letta distruttamente ma non avevo capito forse è morto o meno aspetta che gli taglio la testa si tu taglia taglia io controllo che non arrivi vieno da dietro uuuh ci hai lasciato l'arma se ti serve ci sono delle mani attaccate all'arma il dica sentivo dei passi no ok niente tranquill tranquill l'arma è tanto quella che c'ho io quindi in realtà mamma mia bro ma secondo te se noi perché noi possiamo tenere una testa a testa una testa a testa e quindi non possiamo non possiamo prenderne più di di un totten ce ne mancano tre quindi o entra un altro player oppure ci segue un tizio e se la porta voi sulle spalle finchè non ci facciamo seguire da un tizio anche volendo volendo volando prendi un po' di stick mentre sei in giro eh sono full sono full sono già full infatti ok questa roba sto a mangiare che ti sei mangiato un po' di roba allora stavo dicendo che visto il mio stato attuale di salute sto bene cioè non è che sto male sono solo un po' debole influenzatino ecco questa roba qua quindi se mi sentite con la voce un po' così è per questo motivo ho detto forse è meglio farla di domenica che siccome martedì c'è più roba poi magari sono meno performante quindi abbiamo deciso quasi all'ultimo di farla al pomeriggio oggi questo stavo dicendo ok sto spaccando un po' tutto non so per quale motivo io ho trovato questo villaggetto di dove c'è qualche robina ho trovato una lattina ma l'avamo già visto secondo me sì perché ci sono valigie chiuse capito per quello mi sono fermato mi sono di notte e sbam è cioccolato bababu ma perché la pallina oh bro c'è un'iguana ho presa ho presa tantissimo hai preso l'iguana? ho preso l'iguana questa è la pelle e questa è l'iguana questa invece è la regalo a te aspetta dove sei? aspetta D che sto prendendo robe utili tipo la corda vieni D vuoi? no grazie è apposta D grazie l'iguana è per ospitale comunque abbiamo la cena tieni la tieni la tieni guarda qua i loro i loro cosi ah siamo dei pirla mi sono dimenticato di prendere le frecce e l'arco ho trovato una testa bro no vale come teschi vale come teschi vabbè tanto la spino ai teschi anche io sono pieni teschi tanto non importa perché l'espedizione quella serie andiamo a farla adesso che tanto diventerà buio e quindi mi prendo anche l'arco perché per fare la spedizione quella serie ci vuole l'arco ragazzi eh sì io ce l'ho l'ho lasciato anch'io a casa mannaggia a me vabbè ci facciamo ancora due passi c'è una calemina qua però attenzione vogliamo fare uno sneak peek come si fanno a taggare i posti perché mi ricordo che ci avevate detto che si poteva fare ma non attaggare i posti tipo si può mettere una sorta di bandierina qua mi sa che te la devi fare o no non so aspetta vediamo subito magazzino costruzione personalizzata segnali no ss no frate segnali esatto effigere se no no secondo me o ci facciamo il focherello stupido eh cazzo è sta roba potrebbe anche darsi una foto siamo venuti bene no non è una foto nostra vai entriamo un attimo dai entriamo entriamo giusto per non passare la notte fuori vediamo se c'è roba pesa no con il progetto non vedo l'uva c'è un pezzo di pistola nella casa del villaggio ce la siamo persi ma non credo niente fratello bisognerebbe fare eh sì non siete un cazzo vedi se c'è la torcia c'è la torcia dovrei avercela però è per cento dai vediamo o la tiene uno o la tiene l'altro la torcia infatti io mi fa mi mette un po' di ansia questo eh ma infatti perché questa è un'entra nuova non ci siamo mai entrati con attenzione questa è una valigia sono un po' di braccia qua per terra c'è un fernando laggiù eh no c'è un po' di gente aspetta aspetta c'è fernando e c'è anche aspetta 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 non mi hanno visto non mi hanno visto no no non t'hanno visto non t'hanno visto eh io tengo l'altro dai ahia scherzavo eh niente sto picchiando solo sono morto no non essere morto ti sono curato ho picchiato solo te per un'ora praticamente giusto così ce ne abbiamo uno qua eh ok pia la testa ricordati aspetta orca puttana oh zì ma non è che vai troppo veloce è un fenomeno oh che cazzo fa madonna che velocità c'aveva lo zio ok vai sto cia la testa ok distacco questa abbiamo finito aspetta oh zì quanto ce l'hai incollata non è mica possibile oh mamma mia perfetto ok oh guarda quanti soldi qua il braccio sacca come mamma mia ho trovato tipo tantissimi soldi ci possiamo comprare una macchina quando poi riusciamo a fuggire dall'iso questo è un casco che però non si può mettere un'altra valigia allora c'è ok ma è pieno di roba di secondo me c'erano questi c'erano solo questi due fringuelli dentro la grotta no no affidati che do più avanti eh allora ah ma perché quasi allora allora aspetta ma forse è meglio che non ho l'arco ragazzi almeno ho un oggetto in meno che perdo se muoio allora aspetta io terrei la mazza questa comunque no basta una mia se non da farsi benedire la torcia vediamo 2% io c'ho no non ce l'ho più le batterie forse no non ce l'ho più voglio equipaggiare l'accendino ha variato vedi lasciamolo allora voglio equipaggiare l'accendino LL eh no mi tira fuori la torcia F tu puoi respect vabbè niente finirà la torcia poi mi tornerà a accendire stai scendendo bro si vai arrivo sono a ruota in realtà si vabbè raccogli i bastoncini 10 su 100 ma per fa' cosa scusa 10 su 100 ma questo quanto è difficile perché servono per farci il portarmature ah ok ok ma mi tira sempre fuori la torcia scarica tra l'altro ma porco del demonio scusa ma pensa quanto è difficile scendere una corda con un accendino in mano ma non è scarica adesso è scarica quanto cazzo sia ma quant'è è grossa sta si è stiamo arrivando non so in cima ma ragazzi ma dove cacchio è ma basta quanto cazzo siamo scendendo aspetta che devo dove sta l'accendino porco il demonio ok ci siamo raga l'acce di se ero io pensavo di rompere quella roba ma basta tirare fuori la torcia e beh allora fai l'animazione che la cambi con l'accendino no ma guarda quante braccia quante gambe ma raga ma tutto bene no ragazzi aiuto torcia arco di porco ah c'è puoi fare le armi con la luce finchia ma se tu vai su accendino e fai equipaggio col tasso sinistro qual'è l'accendino oh è qua non lo trovavo è sotto lo zaino ma non lo vedevo era quello che ho fatto ok vediamo let's go di qua non fa passare ah no ok si no no vai 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 attenzione mamma mia bello sto deposito secondo me qua siamo vicini al posto dove ti portano se ti catturano oh ho trovato le batterie della torcia grande pazzesco che culo allora aspetta che visto che ho trovato c'è esclusivo c'è dinamite dinamite di prendi tutta la dinamite che puoi non ci credo c'è dinamite no vabbè è pieno zeppo di dinamite ragazzi lattine madonna quanto loot c'è anche mamma mia quanto loot latte abbiamo fatto bingo c'è un pennello c'è un pennello prendi il pennello va bene pennello c'è della vernice anche trovato un foglio medicine madonna raga quanta roba che peccato che non possiamo non esiste si può craftare uno zaino le frecce non si può craftare uno zaino per portare roba no perché c'è lo zaino qua questo è da sbloccare vi aspetta posso aumentare perché c'è no c'è il lucchetto oh bella questa ascia ascia moderna bro l'hai vista? eh no stavo guardando se potevo aumentare la capienza dello zaino per portare non so se te la fa vedere ancora qua si bella ce l'ho anch'io bella bellissima vediamo quanto fa? e beh fa un bel danno è molto più devastante mamma mia è molto più devastante molto più poca missa e quasi anche mi sa più forte di quell'arma che ho io adesso in mano circuito stampato raccogli tutto io una lattina me la bevo così ne posso portare altre tra l'altro proverei a fare una roba tanto abbiamo un miliardo di dinamiti proverei a far saltare qua per vedere se c'è qualcos'altro vai mi stai gasando mi hai veramente gasato tieni un attimo la torcia fammi vedere se mentre faccio allora aspetta che mi prendo la torcia che cazzo è la dinamite? eccola qua vai sei pronto? vai ma te la lanciate mamma mia no ma con che lancio? bello non si è mossa una scat mi sa che le scatone non sono in removibili circuito stampato abbiamo 180.000 candelotti abbiamo un miliardo effettivamente io andrei avanti di dinamiti in sta caverna va bene culo che bel posto che abbiamo trovato che bellissimo posto oh ma senti un po' ma no ok no perché se no mi va male la cosa la la ma la lucertola sarebbe un peccato a questo punto ci facevamo un fuocarello qua mangiavamo tanto tu come stai messo? eh no io ho metà stomaco ancora io farei qualche metro in più non so perché il mio personaggio ha più fame del tuo ma tantissima di più davvero è perché mi sa che io ho mangiato vedi che comunque anche se ti fulli però rimaneva poco secondo me ti dura di più la la sazietà come parlo ho capito ho capito mamma mia sei veramente un dottore bro grazie di ma due ore per scendere da sto coso tra l'altro effettivamente come hanno portato tutte quelle scatole la sotto di te lo sei chiesto tu? beh effettivamente è una domanda da chiedersi però va bene ti avranno messo due o tre anni comunque allora altro io sono curioso di capire col pennello ho trovato un pezzo di carne a caso eh si era mio l'ho lasciato prima perché era variato che cazzo è qua? C? aspetta mi ha fatto piazzare della neamite qua perché? oh scopriamolo subito bro un attimo aspetta come cazzo si fa? C eh ho capito però aspetta eh no eh no oh ma mi sa che te la fa solo mettere è tipo un portadinamite tipo un portadinamite giustamente non vedo il motivo aspetta che allora mi mangio mi mangio il cioccolato o di perché sto veramente morendo dov'è? eh no aspetta aspetta non lo mangiare facciamo un fuoco perché anch'io sto morendo ok vedi ok qua c'è altra roba lo sparo qua il fuoco? aspetta vieni un pochino qua dai sparalo qui ok anzi no 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 eh sparalo dovevi prima che così almeno se dobbiamo ritrovare quel punto abbiamo almeno un fuoco teoricamente dovrebbe rimanere che c'è un fuoco qua qua sparalo qua ok dove vuoi allora cos'è meno ce lo segniamo fuoco fuoco base aspetta che ho preso vamos e si griglia ed è ferragosto in un attimo ed è ferragosto in un attimo esatto allora ho la testa io non la vorrei cucinare onestamente non c'è più niente c'è solo quella lucerzola e ma mi diceva se cannibali non vi attaccano e sto cazzo sta l'ho presa io l'ho preso io in qualche modo un'unice rossa sì ma non so dove me l'ha messa io ho il pennello no io ho trovato un pennello io avevo trovato il pennello e apri ah eccolo no non è questa avevo trovato il pennello e anche la cosa ok si è immaginata lascia moderna ma perché non la voglio usare adesso ragazzi serve lascia moderna me la terrei perché non ho capito se danno durabilità a questi oggetti me la terrei per dopo intanto vediamo se riesco a aumentare un po' il danno di questa allora arma più velocità più danni meno velocità quanti danni ha st'arma micchia più danni meno velocità è già al massimo allora più danni meno velocità allora attenti scusami io ho trovato anche del cioccolato l'ho andato a finire ah eccolo spuntino mangia ok buono non hanno durabilità dicono quindi giui giui ah ok devi mettere tanti che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo guarda quanti cacchi di denti ho e cosa servono aumentare le caratteristiche di un'arma oh ma il mio personaggio può cioè nel senso sta fermo in piedi vicino del fuoco gli si abbassa tantissimo la roba dello stomaco quanti cacchi di denti ci ho messo sopra sta arma cioè io picchio coi denti degli indigeni piccola roccia vediamo chi dovrei averci gli denti si ho aumentato un po' la la potenza Antonio lo otteneggiamo eccolo 33 denti mi ha mangiato ci sei a posto ti andiamo si andiamo let's go da che parte destra o sinistra eh io andrei ah perché di qua c'è un bivio oh my god io andrei verso esatto andrei verso destra ecco a me ecco a me in pratica abbiamo della dinamite per farla saltare in faccia ah di qua c'è un pertugio là c'è un pertugio fai vedere c'è un'altra strettoia vai insicchio insicchiati insicchio poi c'è il verbo insicchiare eccoci ho detto qualsiasi suono ok non ne usciremo mai più da qua allora attenzione che qua sento sento che stiamo andando a ficcarci nella cacca però vabbè si potrebbero esserci le fringuelli secondo me qua c'è che cosa non ci siamo dovremmo portarci più cibo aspetta eh la d allora metti chi sopra un'altura perchè qua vedo roba che vedo un miliardo di cadaveri non mi piace vorrei ci fosse un bot che c'è di allora aspetta adesso lo faccio vedere è una cosa un pochettino strana batterie dove cazzo sono l'ho messo prima l'ho preso prima faccio vedere io bro guarda la d ok allora tienilo 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 merda stai qua su stai qua su stai qua su stai qua su però non carichi ma neanche mai nella vita ok tienilo lì tienilo fermo tieni zio mangia questo merda l'ho mancato non l'ho preso l'hai preso l'hai preso ancora ancora tienila la tengo è lì eh è diventata tutta carbonizzata quindi è un po' più difficile a vedere merda ma la d glielo lancio i'm pre fire l'ho preso ancora ancora tienila Dai è rimbalzato dall'altra parte È morta È morta aspetta aspetta sto accendendo ancora un aiuto Scherzavo Beh non ho usato un altro È morta l'abbiamo fatta fuori Bella tecnica però Le dinamite abbiamo trovato prima servono Dov'è morta qua È tipo esplosa in mille pezzi Tutto a posto ragazzi Tutto a posto Che schifo Ok ho perso C'è perso ho usato quattro dinamiti Però sento dei versi molto strani Non è che c'è un altro attenzione Ah È schifo aia Ah ok Punta ancora perché non vedo di Guarda c'è uno qua guardano Che cosa sta facendo Punta ancora che non vedo Ok A posto Cosa sono questi non si prendono ok C'è un cuscino Ok Un po' di bambini qua Controlla intorno un attimo Oh ora quante bevande Dei queste buonissime Ve ne avevo subito una Nice anch'io Ok In questo momento Che quello che serve Vorrei avere la torcia Come di dove Diccio la corda Come si può cercare Velocemente L'inventario Sono divento scemo No bro Le batterie sono vicino All'accendino se ce le hai Ma io l'ho prese prima Non me le dà Ma le ho prese Te lo giuro Dovrebbero essere vicino All'accendino Qua l'accendino Non mi vedo Ma l'ho prese O non me l'ha messe Ma tu le vedi Ti sto aspettando No Te le sto vedendo Eppure le ho prese Mi diceva batterie Non te le sto vedendo Strano Me riesci a prestare un po' Eh non ce ne ho io bro E come fai a sapere che sta là Perché ce l'avevo Io l'avevo già cambiate A questa Boh strano Vabbè tanto dove Ritorna Doveva ritornare A prendere la dinamita Andiamo un attimo avanti Qua c'è una corda Che mi sa che Allora aspetta che Io la tolgo la torcia Perché comunque Poi mi si scarica anche a me È un casino Scusa che mi hanno Tutte le cose da fare Scusa Io sto a morire di fame Tra l'altro Eh di nuovo E spero a cavera La cascata E spero a cavera Ok Vai Dove sei? Qua Ok Ok Sti due sgabelli qua Scusami Ma è per fare il rinamento Ah ok Beh allora ci tengono anche All'interior design Ok Ok circuiti Qua c'è roba da aprire Speriamo che ci siano magnati Ma io ce n'ho un paio Ecco Comunque ci manca veramente in fretta Lo stomaco qua Sì Ok Niente Solo lo spray No allora qua c'è una C'è c'è delle medicine Le uso Buono Tanica di benza E c'è Bro c'è tipo una Una cassetta Un'audio cassetta Audio cassetta Due raccolto Questo si spaccherà secondo voi Questa è una bella domanda Ci proviamo Secondo me non si spacca Però proviamo Però riapri un attimo il menu C'è l'inventario Aspetta un secondo Non si spaccherà mai Porca miseria No vabbè tanto c'era un miliardo di dinamiti dietro Non è che abbiamo sprecato Cosa che devo fare è aprire l'inventario Sì aprire un attimo l'inventario Eccole qua Sono comparse Prima c'erano Sono io matto No aspetta Non è possibile Che ci siano adesso Non le ho viste prima O sono comparse adesso No no non c'erano Te lo posso confermare Non c'erano Perché le avrei viste subito Questo gioco è pazzo C'è Non ho capito A parte che ne ho un miliardo Quindi posso usare la torta Mamma mia Devo mangiare io Devo mangiare Ti dobbiamo uscire E allora andiamo verso Andiamo dall'altra parte Torniamo dall'altra parte Usiamo il fuoco di prima Non ne fare un altro Torniamo lì Intanto dobbiamo tornare lì Circuiti a posto Madonna c'è un miliardo Oh ti servono Sei a posto con le cure Sì con le cure Sì è che C'ho veramente pochissima roba Nello stomaco Cioè Fra poco Comincio a deteriorarmi Allora qua c'è una corda Però non la prendiamo O la prendiamo e vediamo No no non la prendiamo adesso Andiamo prima a vedere Cosa c'è di là Andiamo andiamo Anzi facciamo una roba Vai Vai un attimo a vedere Che cosa c'è E Vai un attimo Scusami Vai a fare il fuoco Vai a accendere il fuoco E cucinati Ma non c'è niente da cucinare Bro è quello il problema Allora prendi lo snack Allora non usciamo di qua Allora vieni qua Andiamo Perché mi sa che qua ci porta fuori Io vedo un'uscita Ci porta fuori Però già prima raga Allora siamo cecati in due Che avete lo dire Allora siamo cecati veramente Siamo cecati in due Cioè io prima non l'avevo vista Apri l'inventario L'ho vista e subito Subito Insomma Vabbè In una parte della caverna Si trova la katana Pensa quanto Sto influenzato Se non ho visto Se non l'ho visto Minchia raga Veramente Oh si esce di qua Bro perfetto Eh per quello ti dice Ti possiamo cacciare subito Bravo bravo Subito Buonasera prank Bella zi Ah siamo ok Io vorrei veramente Segnare tutti i posti Perché sennò Ma da dove cazzo Sei arrivato Che cazzo non so Io sono uscito dalla grotta Gli ho visto arrivare dal cielo Tipo Vabbè ma io sono spiderman Vabbè Allora il giorno Questa roba Buona il giorno Giovanna Oh oh un coniglio Cazzo diciamo E poi torniamo giù Dobbiamo vedere l'altra parte E lì No L'ho mancato E qua coniglio Di merda E qua E' troppo veloce E' troppo veloce E no il coniglio Lo devi far fuori con l'arco Che non ho Mannaggia lui Poi ci sono delle bacche forse No Cagata Non è vero Io devo stare attento Perché se perdiamo la caverna Non torno più Ecco qua bacche Grande D Arrivo Bacche anche qua Erano buone Molto buone A te le dà Se le mangio io Sì sì Ok cerchiamo le altre Però l'accendino Ma perché Togliono Cazzo sto uccello No Non l'ho preso Eccole qua Sto io di Mi sono Non erano buone Non erano buone Da che stasera ci cacchiamo addosso di E allora andiamo a cagargli addosso a loro Ecco raga ma come si mettono i segnalini nella caterna Come si mettono i segnalini nella caterna Non si può è una leggenda Eh me lo continuano a dire Io ci credo capito Ah se ti hai premuto shift ti fai scivolare Figo Figo Cadi molto prima Scendi molto prima Davvero io l'ho provato 800 volte Adesso me lo sto facendo Vero Sibile L'ho provato come Come batteria Let's go L'altro pensa che male ha le mani Eh vabbè Ti fai 80 metri di corda così Ok Eh la mappa Sai che l'ho trovata una volta sola la mappa Ci sono le mappe delle caverne sai Aspetta Però L'ho trovata solo una volta Ah dovete mettere bastoncini e stoffa No vabbè sto male Aspetta Non ci credo Eh però Cosa fa sta roba però Bastoncino potenziato Niente Bastoncino potenziato Niente Però 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 puoi dargli fuoco per Per vedere Nice Bello Andiamo Nice Funissimo Che non si vede niente Perché si vede solo il fuoco attorno al bastone Però fa niente Però Sono dettagli quelli Ok sento la dignità Sta parte l'abbiamo fatta Ricordati Allora Ok Addentriamoci Ciao la dee Eccomi La dee Aspetta che sto equipaggiando la roba giusta Ok Allora parte qua l'abbiamo fatta Parte dall'altra parte Questa caverna C'è sia la motosega Che la katana La katana Che cazzo è la katana Allora lui ha scritto katena Allora scrivere katana Dice che si sporco di sangue Eh no Mi dice che ho fame Tanto per cambiare Strano Abbiamo appena mangiato Eh Allora Aspetta che vado Torno a prendere la dinamite Stai pure qua se vuoi O come vuoi Ti aspetto Ma c'è anche di snack qua? E non ho trovato nulla Proviamo la motosega Svolgiamo tantissimo bro Dobbiamo cercarla eh Eh ho capito Eh che cazzo ne so Io se la potessi trovare Dobbiamo cercarla fortissimo tanto Allora Uh altri soldi Here comes the money Ok Perfettissima Tanto Full Bella la pallina No 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 Allora Quando poi sali Andiamo da sta parte di Perché ho sentito qualcosa Veramente di brutto C'è roba interesting Eh Eh Sento dei rumori Di che sono veramente brutti Sai Eh Nessun problema Guardi Sta arrivando No no Proprio tanto brutti Tant Tantissimo Salendo eh Vai 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 Aspetto La dinamite usata per l'albero Vicino a casa vostra L'ho già usata Caro Già fatto Già fatto Già fatto Ce l'ho un pezzo di pistola La motosega La motosega Disintegra i boss Sì però Non 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 la trovo E la benzina Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Sì sì La benza sì Ok Allora Aspetta un attimo Ok Yes Come on Va bene Ma basta Guarda Eccolo Mi sono rotto il caso Sotto ora che guarda sto pennello È un pennello Bravo dai Mettilo via La dinamite da questa parte Per me si è baggato Stiamo a guardare il pennello A caso Aspetta che Soldi Niente Mi si è baggato anche a me L'equipaggio di muovi Va bene L'ho scritto costantemente equipaggio di muovi Mi ho fatto saltare un attimo Stavaggia Ok Stoffa Ma noi di qua ci siamo già passati Scusami No 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 Non può essere È vero No Di là Mi sa che non ci siamo passati di qua Poi attento lo scopriremo subito Quasi Ah mi sa che Più che altro bro Io di qua sento veramente dei suoni Veramente molesti Quindi Aspetta un attimo L'hai dritto Noi siamo Sì siamo arrivati di là Di Di Eh sì 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 siamo arrivati Eh lo senti questo rumore Puoi sentire Fammi andare a vedere Di Non sento il cazzo Ah no Sì un po' sento Sento anche qualcuno che non ha digerito il pranzo Che mi hai fatto cagare Ma ci siamo già passati Guardi Aspetta Ti giuro Siamo arrivati di qua E quelle valigie chiuse allora? Eh non le avevamo Ma ti giuro che ci siamo già passati Mmm Sì sì No Cioè non lo so Aspetta Dove cazzo? Che por... Madonna che fastidio non capire dove siamo Ma non è possibile da che parte siamo arrivati? È da un'altra bro Eh non si capisce un ca Non è strano che tu non Non ti riesca ad orizzontare Orizzontare? Sì Ad orizzontale? Sì Ah anche Allora Io non riesco ad orizzontarmi Aspetta che No ma come una specie è qualcosa che non va Non è possibile Noi siamo arrivati di qua Cazzo mi sembra di guardare Espe e fenomeni paranormali Allora Dove... Ma come fai... No non è possibile Noi siamo arrivati di qua Non c'è cacchio qua No ma mi sono raffreddato No non è vero Non è vero Ah no guarda Ah no aspetta cacata Non lo so Tentilo Non so come... Quindi non saprei come uscire Assoluto Disequipaggia sta roba per favore Ok Alan Grazie caro Non so da dove siamo arrivati Grazie mille da donation caro Un bacino Grazie bro Aschi Eeeh Vabbè niente Quindi non so come uscire da sta caverna Vabbè usciamo dalla roba del boss poi Perché ti giuro che siamo arrivati di qua Ah di qua siamo arrivati Vaffangula Eh hai capito? Eh allora c'era un ulteriore via che non avevamo visto Eccola l'uscita della caverna Ok a posto a posto a posto a posto Let's go Verde 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 a posto Allora Bravo questo glielo sfondiamo A sinistra c'era quella roba lì Niente di che Qua a destra c'era il coso Qua dritto invece Anche dritto c'è roba Madonna quanto grosso Quanto è grossa sta caverna bro C'era roba anche dritto Eh non sembra bello qua eh Eh il problema è che anche a destra c'era un altro posto C'è pieno di posti Ah no forse forse si ricongiunge Speriamo di sì Almeno dobbiamo cercare 26.000 posti Porca puttana C'era un pipistrello Mi sono cagato nelle mutande A posto a posto ragazzi Eh Ma vaffanquorum Senti Eh infatti anche qui mi sono cagato C'è lo zio Oh Eh niente Lascia stare la de Bravo Ecco Ti prendo anche i dentizi Che cacchio è quella roba lì C'è un pezzo di carne che si muove Va bene Allora Oh ma possiamo prendergli le braccia bro Così mangiamo Va bene Cioè è brutta come roba Però c'ho fame Cosa devo fare Va bene va bene Fai bene Ma Una volta l'ho fatto anche col mio gatto Allora aspetta Ok Facciamo il fuoco Vieni qui se hai fegato No no Nel senso che c'è del fegato Oh bro qua c'è qualcosa da rompere Non è vero Spacca tutto Nuovo animale scoperto Fai vedere La G Bro faccio il focherello eh Faccio un ottimo il focherello Non so dove te lo segno Eh no aspetta aspetta Non lo fare l'hai fatto No l'ho fatto Tanto sono pieno di stick bro Mi sa che qua ce n'era uno Ah vabbè Spica minchia davvero Ho un bel braccio a cuocere Ne taglio un altro anche per la D Che deve mangiare che sta influenzato No mi sto Mi sto Sto perdendo Senza veramente No qua è da dove eravamo rimasti prima Quindi qua a sinistra E dove c'era il posto di prima Ok mi sono ritrovato Ok a posto Allora ci siamo riuniti Ok perfetto Era qua che l'ultimo posto che dovevamo controllare Ma si riuniscono le due poste Ok ti uno è pronto Io sto a mangiare Arrivo arrivo Niente ok abbiamo riunito tutta la caverna A posto Madonna è casino Che casino infinito Da che magari cucino anche una gamba Non si sa mai Eh dimmi mi fai un favore Me la fai ben cotta Perché a me piace Ben cotta Arrivo Arrivo Questa è carne a chilometro zero Proprio Beh beh bravo Allora vai Magna pure Dinecraft Grazie caro La vernice ti non ti fa attaccare Ma se ti bagni va via Ah Ficata Effettivamente può aver senso Vedi che la vita va a colere E copri anche mangiando Comunque E Questo è l'aperitivo E questo è l'aperitivo Che cazzo hai qua E via Eh lì era Era coperta Considera quella parte Sa che sta perdendo Di nuovo la batteria O no No Perché non vedo un cazzo Ah era coperta Non c'è niente No c'era C'era la cosa La staccionata Che ho distrutto Non c'è niente Ma hai trovato Mi mangio Mi mangio la gamba No Perché non c'è niente E' molto strano Buono Metti il piattino Per scambiare Metti tutti gli stick E poi annulla Non ho capito bro In che senso Per fare cosa Prank Allora Quindi tu sei andato a vedere Di là Non c'era niente Tutto vieni qua Ok Non c'è più niente Da vedere Questo è tutto Ti trasto 100-100 Let's go Aspetta fammi equipaggiare L'altra ascia Ok Vedo niente Grazie caro Grazie Ogni volta che vedo qualcosa di appeso Oh Michael Tranquillo Tranquillo Ho sparato un nome a casa Disegni di timmi Lista dei passeggeri Mappa della caverna Eccola qua Vediamo Merda però Ti inizio a segnartela Da adesso Oh alcol Alcol Qua è pieno di alcol Ti inizio a segnartela Da adesso E' fastidioso La bussola dove me la messa Eccola qua Boy scout Vabbè la bussola non è male Allora io sto luttando Sto cercando un po' qua intorno Qualcosa di Utile Questi qua sono tutti membri Del Cazzo Erano tutti nell'aero Sti chizi Ma senti questo rumore Ti devi preoccupare Ti è che quando C'hanno fame Lo senti Facci una corda Per salire Oh cazzo Ma tu sei Ma tu sei Price Eh vabbè Non pensavo Non scassassero ste robe Sti sce Aspettate Ma quanto tra l'altro Direi io ho già preso Quello che trovavo Ah ok Quello che hai trovato Ce l'hai già Sì Ok posso Bene No volevo vedere se era scoperta tutta Non so se c'era senso Ma di qua si esce mi sa No non si esce Non si esce Dalla corda si mi sa Perché vedo la luce No no secondo me no Secondo me è un bug Guarda Sì sì filati Cioè filati Non lo so Secondo me non si esce È un bug È un bug Secondo me non c'è uscito E invece c'era Eccola C'è anche un sacco di gente Io tornerei giù La dì Come un sacco di gente Stiamo organizzando un The Forest in real life The borderline Non mi contare Non voglio Non voglio venire mai Ah sì sì c'è un sacco di gente Sì effettivamente Ma si è sceso tu Ah no Ma te Eeeh Andiamo a valutare Ma sì dai andiamo a menare Buongiorno Porca vacca che schiaffo gli ho dato Madonna Ma sono tantissimi Ahia porca vacca Ahia C'era arrivato uno da dietro Che cazzo ridi È morto Ok Ok Uno è andato È molto forte questa arma C'è un bug shot Aspetta devo recuperare un po' di energia Non è anch'io Ahia mannaggia Eeeh Che male Sono quasi morto Ok Bravo Ok Sì a testa Eh ma ce n'ho già una D Ah non è per favore Oh Da dietro Oh sì son morto Son morto No K fuggi No Sei morto definitivamente Ti hanno portato via Ti hanno portato via Sei morto definitivamente Sì Come mai sei durato così poco stavolta Non lo so bro Forse dopo un po' che ti atterrano Durì pochissimo Ma perché mi sa che il tipo mi è venuto a picchiare Ma c'è il mio cadavere lì? No 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 Quindi ho perso tutto No credo che tu lo possa recuperare invece Sì Però io non lo vedo Ancora gente Ma che cazzo Sì 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 Penso di poterlo recuperare Sì sì poi 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 Aspetta eh Io li ho fatti fuori tutti Ma che sfiga Minchia mancava l'ultimo De Non ci credo Vabbè tanto Se riesco a recuperare tutto Tantissima roba Se riesci a correre non è male Arrivo sto correndo come un folle Ma scusami non ti portano nelle caverne quando mori No perché li ho fatti fuori tutti Sto rinato nell'aereo Ok Aspetta c'è gente qua Merda C'è altro Mannaggia Ricoperto di sangue Ok Prova il tuo cadavere per recuperare gli oggetti che avevi nello zaino Ok nice Sì 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 Puoi farlo Puoi farlo Buonissimo Meno male bro Fun drink Vabbè Ti aspetto qua apposta Sta diventando buio però Eh lo so Eh lo so fratello Sto correndo come un pazzo Chiudi così Si riesce a fare un fuoco Non lo so Uh dinamite Madonna C'è niente A facciamo quasi Eh Tranqui Vedo la torcia Tu hai la torcia Sì Ok allora ti vedo la torcia Sto arrivando Nice Qui di stampati Ho lootato un po' tutto Che poi non vedo bene Perché vado direttamente sul mio cadavere Oh cazzo c'è un indigeno di fianco a me Di arrivo io Guardalo guardalo La tonna Cazzatissi Vai 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 ciao Vado da una mano entrare e non te fanno entrare apposta di c'è il fuoco di prima dov'è che l'hai acceso non me non ricordo però dov'era che ne so allora più indietro più indietro si era torniamo a corrido non morendo di freddo e non mi sciacquo perché non si sa mai già che sto morendo di freddo perché non sciacquarsi mamma mia meno male che ho di nuovo tutto cazzo è il fuoco che hai fatto dove dov'è 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 e considera che adesso sarà spento e quindi ma almeno però devo dicere nel senso non lo vedi bene era tipo qua qua cucinare niente allora mamma mia ma son vista veramente brutta è proprio cucinare qualcosa e io non c'ho niente c'ho nulla a cucinare non c'ho proprio nulla anche quella allora aspetta perché c'ho questo rimuovi non è che ok mi devo mettere la cucina la cucina la tengo è boh se stai morendo di fame cucina la prova e non poi non puoi mangiarla la testa che schifo ragazzi veramente stai morendo di fame non sto a morendo di fame anyway abbiamo visto tutto di qua quindi let's go back qua c'è una strada ancora ok io so io sono senza vestiti vero bro nel senso quelli base ma quel cosino lì sono io se è c'è questa strada che non abbiamo ancora visto se c'è mi dice che devo ancora vedere perché equipaggio lascia di prima meno male raga che ho recuperato tutto no stavo malissimo altrimenti caccia di quella vacca morta madonna è tipo qua mi sa no no si ce l'avamo passati ma ho preso di quasi ci sono snack pieno ho bello ho trovato ho trovato una testolina il giocattolo prova a combinarlo anche un cuore manca un pezzo ancora per finire il giocattolo che serve fare il giocattolo in the forest due vie direi a sinistra oddio è cascato uno la te la d quanti occhio la d allora aspetta aspetta equipaggio via 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 vorrei dargli fuoco si 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 adesso adesso bro dai resisti puntalo non vedo con la torcia non vedo qua punta punta la torcia e non ce l'ho aspetta ok l'ho colpito l'ho colpiti tutti vedo un cazzo non vedo ne manca uno che sta correndo in faccia a posto prendi che sei magna vai è un po di più che faccio ascio no no allora madonna io ho preso due gambe non so se sta roba taglia effettivamente sto usando nantesca ah no sul kumi de giaco caro vabbè non taglia niente sta fare vabbè ho tagliato tutto io di non ti preoccupare tanto è già cotta mi sa anche cazzo ok possiamo tornare aspetta che vuoi vedere madonna è pieno di vie in queste caverne maledette madonna si capisce niente cassetta robe alle codici per le molotov qua sopra d arrivo eh carichi di roba veramente quanto vorrei che l'inventario fosse più capiente cosa c'è di qua si può andare a qualche parte da sotto si e non vedo nulla e ma siamo in una caverna che dovunque vai ci sono zone che puoi raggiungere una roba infinita è infinito sto mondo questo c'è lì aspetta madonna che climber eh ma non c'è niente però non c'è che proseguono e nulla di là e ok non credo no 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 qua ci sono delle cose mlu mi parts mi devo tornare lì senza piacere Allora rimuoviamo Leviamo Non ce la maniamo va bene così per il momento Ah ci abbiamo le gambe Dobbiamo andare a cucinare bro Va bene Mi sa che qua C'è un gaz Qua sarebbe da esplorare No ma mi sa che non c'è niente ho visto già Tipo neanche di qua si scende da nessuna parte No ho visto visto Torniamo allora Il posto giusto è qua sotto Ad immergersi Ma a me non ho sentito Scusami che c'è l'acqua che mi entra Ok Però lo facciamo Dopo aver mangiato magari Perché sennò facciamo indigestione Esatto Ha senso Tieni a aspettare tre ore ragazzi Ricordatevelo sempre mi raccomando Una cosa molto importante Allora Sono fatte col culo Non si capisce niente C'è una motosecca dove potevi scendere dell'acqua Aspetta Questa è un altro Questa è un altro Un'altra grotta? No è quella di prima No non è quella di prima Sì sì Poi hai già visto quindi Non si può andare da nessuna parte Non si può Ok Scendiamo Usciamo Fuoco Cibo Ci sei Ci sono Te sono a ruota Aspetta che energia Energia Ok Vista corda Let's go Ti ho perso fratello Dove sei? Sono nell'acqua Devi scendere Ah ma Ah ma tu sei Madonna Scendere un macello Devi girare Intorno Ti ha fatto un tuffa bomba Però che quelli che abbiamo fatto sul lago In confronto erano niente Eh ma non c'è un cazzo Nulla Fai un chilometro per niente Porco demonio Emergi D Vabbè almeno abbiamo esplorato qua Abbiamo capito che non c'è niente Trovato 98 monete Bene Vabbè non c'è nulla raga Eh non c'è nulla È il momento di fare il fuoco D Qua Eh Ma ci sei rimasto veramente male Eh Già madre Tutto sto casino Tu hai da mangiare Ah sì Le braccia Le braccia Le gambe Tutto Quando vuoi te Arrivo adesso salendo Ci mette un po' Ok Ok Facciamo il fuocarello Eh sì Vamos Faccio io eh Let's go Ho messo du braccia Metto anche le gambe A posto Un po' di foglie Che ci riscaldiamo Ci accucciamo Qua bravo De Io come faccio accucciare Ok Ho messo un'altra Bravo Prank Grazie per la donation Broski Prank Alla fine del giochi Ci sono due finali Sì sì lo so Uno Non mi riparo se tutti e due Gli ho fatti Quello che fanno Oh oh Intanto gli da tutta l'energia Nel buco c'era Raga non c'era niente Nel buco Cioè adesso io vado a riguardare Per scrupolo No non ricordare Sei matto No non ricordare Non c'è niente Non c'è proprio nulla Raga Eh da che partiamo La domanda Ok questo è dove Non c'è un cazzo Qua in questa direzione Dice che c'è qualcosa Sulla sinistra poi Alcol Biocassette 8% Comunque la batteria Quando scende Non si vede È proprio un cacchio Di qua non si va Ma si vede che non sono collegate Ma tu col tasto M Non hai la mappa Oh si cazzo Pidorozza Allora andiamo giù Non sapevo Qua E poi Mi indossa sempre sta roba Che io non voglio Rimuoviti Ok Ok Sto arrivando eh Eccomi Laddi Laddi I bastoncini Mi sa che qua c'è un'altra strada Si vede niente Che odio questo gioco Ok Qua ce l'avano già passati Può essere Oh Si si certo E dobbiamo ritornare indietro Non c'è avvi niente lì Ok Perché è talmente grosso Che più Cioè non è facile E qua si sale Volendo Si sale Si si Mi sa che qua non ce l'avamo andati Mi vorrei di una cazzata Vediamo un po' Ah queste sono chiuse Pazzoletti Braccia Beh No forse ce l'avamo passati Ma non l'aveva segnata Si Non l'avevamo Eccolo qua Si si Non l'avevamo aperto Forse questo Allora Se non erro L'unico posto che manca Non vorrei dire una cagata E qua in fondo Vieni Arrivo Pensate che E qua in fondo A destra Nuovo animale scoperto What No questa a destra Quindi qua era l'altra Però vabbè Vediamo se qua Ci sono stato Se Ok No niente Niente Non era questa a destra Ok Ok In fondo In fondo Niente Sono incastrato Ok Cosa sto vedendo Ok Sono incastrato Si capisce Un po' Ma la mappa è solo della grotta È proprio tutta la mappa No qua siamo ritornati al coso Al fuoco Mannaggia Che cazzo è Si capisce Si capisce Allora Mi fa Questo labirinto Orribile Ok Più dritto di qua Ok Si 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 Può stare Perché c'è un Un loro totem Diciamo Pacco tantissimo Ok Che teoricamente Di qua Non dovremmo aver visto Teoricamente C'è una Ah ok Perfetto Ti esce Si Vabbè ma usciamo Nice Andiamo a fare poi Il D'altra parte A posto Madonna Sti pipistrelli Vabbè va bene Va bene va bene Non male Ho una mattina Buono Ok Che bella esplorazione Carina Torniamo indietro Poggiamo la roba Prepariamoci Andiamo poi All'esplorazione vera C'è una zia qua Attenzione Eh sono Più di uno Forse mi sa No E qual è la nostra casa Eeeh Quella verde Quella verde Sì perché Quelle due Rosa sono i carrelli Ok Eccola lì Torniamo a casa Buono Ecco Scegliamo Tipo la mappa Ah ma la mappa Allora funziona Anche all'esterno Davvero Ok Pensavo fosse solo Della grotta D E' vero Nice Stanno inseguendo Adesso mi stai inseguendo Lui dovrebbe scrivere qualcosa C'è nato Una tomba Scusami Sì ma l'avevamo già vista Ma se facciamo saltare Sta tomba Secondo te Ti ho provato Eeeh Aspetta Sì No andiamo un attimo In the house E poi andiamo In the exploration La zia che abbiamo visto Prima ci stava Ci stava seguendo E bro Che fine abbia fatto Ma Ok Very nice 3x 3x Ti collascia Mamma mia Proprio lui Allora Bell'esploration Allora Dobbiamo Io devo cacciare Bro Devo Devo Magna Qualcosa E' tipo Tipo un gabbiano Aspetta Possiamo finire il totem Possiamo finire il totem Yes Ok No in realtà No manca una testa La zia ci segue ancora No No Ho mangiato le bacche Sto sboccando Molto bene Ma qua visto che aveva piovuto L'acqua Sicuro c'è E infatti Sono tutti pieni Laddi Ok Nice Metto la testolina Ok Ne manca una Ok Possiamo un po' di roba Nice Direi che ci siamo Quanta roba Che abbiamo trovato Bro Ma Secondo te in questa roba Possiamo mettere anche Le dinamiti Aspetta E Una alla volta Però Va bene Ok Basta Non ne puoi mettere più Ok Ma i capelli Sono spariti A sto posto Maledetto Scusami Era pieno di gabbiani Gabbiani Allora Uno Due Tre Le lattine le metto Perché Stiamo scherzando un miliardo E poi è tutto pieno Mi sa Eh quello vero Però C'è quindi Tipo di snack Ne ho Tredici Non è che servano Io quanti ne ho? Zero A posto Ehm Niente Non posso posare niente Ah c'è una gamba È vero Ancora C'è una gamba Prendiamo gli snacks Prendili Ok così tu posi i tuoi Ci sta Allora Bene Molto bene Ah Stai cominciando a piovere Tra l'altro mi sa che dobbiamo dormire forse anche Potrebbe anche essere quello magari che ci cala la vita così tanto Metti tutte le frecce guide Volendo ci fa dormire comunque Allora Ok Ok Che dobbiamo prepararci per domani Prendo anche l'arco Questa la poso però No Quella lascia fatta bene vediamo No questa è Lascia boscaiolo Lascia moderna si dovrebbe chiamare Ascia moderna Tipo il vaccino Oh qua c'è un Pem Preso Cosa c'è un uccello Abbiamo da mangiare Però non adesso Io non le farei adesso Ah Allora Fiume e Cosi per fare le frecce Allora Di sai che cosa ti direi io Venga Magari andiamo a cacciare Di cinque minuti Aspettiamo che diventi notte Dormiamo Domani mattina ci svegliamo Mangiamo tutto e partiamo Oh gabiano Sono preso Con il becco bubu Dai zi Oh 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 Ok Le piume Ho fatto un miliardo di frecce Bello Bene Io sto un po' Prendendo roba Mi sa che non può mettere più un frecce Però se riuscissimo a cacciare Se riuscissimo a cacciare qualcosa di più grosso Ma andiamo a dormire Poi domani ne parliamo Andiamo a dormire adesso dici? Proviamo Speriamo che non diventi notte Se andiamo a dormire Eh è quello Ma penso di sì Dai al massimo andiamo a cacciare Di notte Ecco vedi diventata sera Mi sa Eh ma non si vede un cazzo Eh infatti O è l'alba Proprio quello che temano Eh quando è niente Non lo so Potrebbe anche essere l'alba Effettivamente Dubito Aspetta che salvo Eh sì è no Hai bagnato e hai freddo Accendi un fuoco Eh Hai fame Trova da bagnare Eh vabbè sono un disastro Vado al Giovanni Bosco Eh no ma infatti non dovevamo fare sta roba Cazzo Vabbè Che hai? Cucina something? Allora Vediamo che cos'ho Cucina un po' tutto Abbiamo fatto una cacata Eh te l'avevo detto Oddio Vabbè non importa Dai esperienza E' esperienza Più che altro adesso che è notte E' un Come mai il mio c'è così freddo scusami Ah perché piove forse Allora fammi vedere un attimo No No La D La D Stavolta mi sono Dove vai? Stavolta al fuo Stavolta al fuo ancora Però anche mentre va al fuo La professionalità nell'uccidere i gabbiani E' sempre quella Pazzesco Sempre elevatissima Ma non me l'ha data ragazzi Non si me l'ha data Ok E' magnato un po' io? No Ok anch'io Aspetta Vai Io sono full quasi In una grotta vicino a un lago c'è una motosega Ok Raga ma chi è l'anima pia che ci cerca Come cavolo si fanno le bandierine? Mamma mia ma che tempesta sta arrivando tra l'altro Madonna Poi tu sei bellissimo scusami Grazie bro Grazie mille Ma che personaggio sono? Ma non ero questo la scorsa volta io Sei bellissimo Io come sono scusa Sono un po' meglio Eh Sei uguale a me Sei la stessa Bro sei la stessa persona Io ti vedo la stessa persona That's not a good news Solo che io ho la maglietta maniche corte E tu invece Quel pozzo No ma infatti devo andare Devo andare a prendermi la roba Perché secondo me il mio personaggio sente freddo Anche perché è vestito Tra virgolette Male Ci conviene stare qua perché Ah no O facciamo un giro e prendiamo l'ultima testa Già che ci dai Facciamo sta roba Almeno Facciamo un giro E facciamo anche un po' di sessione di caccia magari Ma Ma è notte E beh Eh non vedo Cacchio però vabbè Guardalo qua Questo è un gabbiano O una pietra Non so Ok avevo già puntato gente con la torcia Hello Hello No ma Minchia no bro Sono tantissimi Bro sono tantissimi Vieni indietro Bro Sono tantissimi Scappa 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 Tutti L'hanno preso fuoco in duemila Quale cazzo sono le medicine? Ah le ho lasciate in casa Ottimo Aiuto Non è morto Non mi dire così Madonna Sono arrivati in duemila Scappa Cappo Aiuto Devi tornare in house Aiuto Minchia Sono arrivati in duemila Non avevo niente Però sono arrivati in duemila Chiudi sta porta Oh mio dio Bro sai qual è il problema? Che io non c'ho manco il coso per riparare le porte Eh allora non entra Esci esci Vieni a salvarmi Eh aspetta 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 Hanno sfonato tutto Fratelli Merda Devo aspettare che entri Minchia hanno sfonato tutto Bro No non ci credo bro Volevamo solo una testa noi Niente Mai più No 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 bro Moriamo qua lo sai vero Eh mi devi interessare Posso provare Eh arrivo arrivo Sto correndo come un folle ma Resisti eh resisti Eh stavo a metà tempo Dai 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 Ok Hello Ok io non ho scassato Prendere l'energia Energia Non ho sfondato il muro Non fa niente Aia mi ha fatto malissimo Cazzo sono invincibili questi Sono forti cavolo eh Tu dove sei in casa? Ho preso energia Ok C'è uno che ti sta aspettando Sì sì lo vedo Non mi dire Ma poi sei andato al fuoco Al fuoco Ah perché c'ha pure freddo il mio personaggio Capito quindi Sì sì anch'io anch'io Ma non è che ci stanno distruggendo tutto? Non credo No 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 è qua Madonna Impossibile Dai che l'ho messa a terra Buono Ne arrivo un altro qua Bravo Ok C'era un altro solo Sono in due ancora mi sa Ok arrivo No ho spaccato il cosore Ma non ci credo Non ci credo Non ci credo Devo recuperare l'energia bro Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci voglio credere Ho perso 6.000 frecce Ho spaccato mentre tentavo di spaccare la testa Cioè proprio questa testa è impossibile E quindi ho perso le frecce tutte Tutte le frecce che ho messo Va bene va bene dai Poteva andare molto peggio proprio Eh erano solo due le frecce Fa niente Ma sì ma infatti Sono due bisogno A riempirlo L'ho spaccato Dai Mamma mia bro Mai più uscire di notte Mai più Madonna raga che casino Mamma mia quante botte ci siamo presi Fatto Hai finito il totem? Sì GG Non mi scaldavo il totem Devo riscaldarmi bro Quindi ho acceso il fuoco qua Alto totem non riscalda ok Mamma mia Come l'abbiamo vista brutta Ma mangiamo Hai drova? Vediamo un po' Ti metto una bistecca Dì tanto io sto a posto Grazie Dì Mamma mia Aspetta Togliamo sti cadavri da qua Non ho più frecce Cioè ho quelle che ho in Nell'inventario Mannai a me Per indicare i posti Sì ma sai che palle Portassi i carrelli Andrei Per cosa? Per indicare i posti Che i carrelli hanno la Ah ok Vai vai magna Dì è pronto Ottima l'idea di stare qua di notte Comunque Ok Frecce disintegrate Poca miseria Io ne ho un po' di frecce Sì ce ne ho un po' Dì Stacco un po' di gambe Che mangia Vai vai Senza timore Allora La bandierina si fa Nel libertà delle costruzioni Nella sezione in cui c'è lo shelter Se la trovi in inglese Si chiama stick maker Marker scusami L'ho letto malissimo Comunque si fa con due stick E tre pietre Ok Vediamo un po' Ah io non c'ho più stick adesso Va bene Ci provo dopo Grazie comunque Alessandro Bella Ma orai Bro Ski Eh domani mattina Mi sa che dobbiamo Andare A prendere la legna Cioè guarda quanto Guarda quanto muro Ci hanno distrutto bro Eh lo so Dobbiamo dormire bro Vieni che c'è una gamba per te Grazie Edì Sei troppo gentile Veramente Ma andiamo Guarda quante ossa Quanto manca Ma un minutino Mancherà Alla mattina Quante ossa Tantissime Buona questa gamba Col te alla pesca Buona questa catrega Allora La catrega È il braccio Dell'indigeno Allora Ho perso le frecce Io ce l'ho rosico Per le frecce Vai tranquillo Le rifacciamo Lui però Non si rimonta più La testa Mi sa Ok Eh Ah ma il totem Comunque c'è C'è il fuoco Yes Dico Gli ho dato Fatto bene Ah mi hanno Cioè proprio Non c'è più la porta Neanche No no bro Hanno sfondato Veramente letteralmente Tutto Cioè C'è una testa Che rotola qua Ok posso Bene Ma l'oggetto Per riparare Ce l'hai solo tu Scusami Eh non mi ricordo Come l'ho fatto Così fa Ti hanno spaccato Saranno stati Saranno stati almeno Sei Sei indigeni Incazzatissimi Che hanno Shottato la D E poi sono venuti A prendere me Dentro il villaggio Ma Che era Comunque sigillato Tra virgolette Quindi hanno sfondato Tutte le porte Devastante Devastante Fango addosso Va bene E poi il resto Sì è vero Dove Potevamo fare I muri I muri difensivi Quelli più cazzuti Ormai No ci mettiamo Una vita ormai Lo facciamo all'inizio Ok sta diventando giorno Comunque Amen Andiamo a prepararci Per cacciare Let's go Io sono già pronto Allora Sai che cosa Magari uno caccia E l'altro Tira giù gli alberi Cosa vuoi fare tu Vuoi tirare giù gli alberi Perché Eh sì Dobbiamo ricostruire il muro Ma tu vuoi ricostruirlo Va bene Quanti ci servono Quanto ci serve Eh ci servono 15 tronchi Non c'è neanche troppo No infatti Si può fa Ok dai Li tiro giù io gli alberi Yes Io lo slittino Buona caccia fratello Mi raccomando Buona caccia Perché siamo andati Vedi abbiamo già Il call of the wild Mamma mia Con staccetta Gli alberi Vengono giù Molto meglio Sì ci sono indigeni Davvero Ok Non so se sono due Sono tre Ma tu mi sa Ma tu mi sa Ahia Niente Non riesco a prendere Eh vabbè Si fermerà Pertissimo No è pieno di Ne vedo Pieno Sì 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 Anche io l'ho visti Dai ma perché Ok a posto È tornato È tornato il giorno Aspetta Ma muoviamoci Andiamo ad esplicemente D'altra parte Ma io lì c'avevo tutto Capito Cioè tutto nel senso C'avevo il carrello Stai lì Siamo io gli schiamo Aspetta Ciao Qua la zia ci sta ancora seguendo Un l'ho preso Bravo Signori What the hell La day Mi chiamo Cogliattolino Lo scogliattolino Della g Ho tirato una freccia Che minchaglia Arrivata da se Ma mi hai preso Ma ha detto Il proprio Allora Io ritorno un attimo Verso il carrello Bro Trofeo Mamma mia Che freccia Signori Che freccia Io non la vedo Ma dentro di me So che c'è Ma va bene Ok Ho mangiato Mentre mangiamo Avanzerei anche Non so te Vabbè Perché vuoi fare i tronchi Vabbè Tronchi e poi avanziamo Sì Mamma mia Bro Con questa accetta Veramente Cadono in un'inizio Distante sti alberi Bellissimo Vero La accetta Con la moderna Sì Nice Ah io tengo ancora Ghisht Vai via questo Zì Ok Vittoria Grazie del super sticker Cara Scusami Non l'avevo visto Thank you so much E 4 tronchi E 4 tronchi Va bene Siamo full Ok Dentro il carrello E infatti Stavo facendo un attimo Il conto 12 dentro 8 9 10 11 12 Sì 12 più 2 tuoi Siamo Ah in realtà Ce ne mancano 15 No Due L'abbiamo presi Ah Merda Ce ne mancherà ancora uno Mi sa poi Due sono quelli che io ho in mano Sì C'è che C'è che Uno che è rimasto Era quello che hai messo in bilico In bilico E' quello che hai messo lì sopra Di Non si può togliere Eh no Ma era da mettere per forza Mi sa Ok Ti ammonto le mura Veramente È una professionalità inaudita Bene Dai Che fastidio Fastidio che ne manca uno Che è quello Porco demonio Meno che Vado a prendere uno al volo D Vado a tirare giù La porta con il cacchio si fa Che non mi ricordo Ah è qua la devo fare la porta No aspetta D c'è un problema Sai che abbiamo sbagliato Ascoltami Dimmi Che cazzo Tu dimmi solo quanti tronchi ti devo portare bro Solo quello voglio sapere Ok Non serve questa cosa quindi cancella Cinque Ok Ok Qua abbiamo disboscato Tutto Cazzo è questo suono Eh in realtà Si Quattro Ah guardalo laggiù Gli sto accendino che giorno Fratello In realtà ho sbagliato Non so se sono le strac prove Che cosa? Perché potevo modificarla Mettere la porta allo stesso Ma non l'ho fatto Np Np Allora Tiriamo giù questo Siamo un po' Un punto Un po' La merda Dettagli Ok Adesso raga Io vedo le foglie Mi sembrano gli indigeni Che mi corrono incontro Sto malissimo Ok C'erano altri tronchi qua Cioè ho buttato giù un albero E mi ha dato due tronchi No? Va bene Dì Siamo a posto Mattinai Allora Con questo Siamo già a posto? Buono Vai pure Ciao Buon viaggio Laddi Io cerco qualcosa A cui sparare Con arco e frecce Siamo pronti Secondo me Possiamo andare a A fare exploration Serio Eh ci starebbe Che cosa? Dobbiamo prendere Qualcosa da mangiare Però Vabbè che abbiamo Gli snack però Gli carne Va Non c'è niente Un là Va bene Arrivo Eh di Dimmi Spaccato La trova Trova È montata la porta al contrario Che palle Stupendo Bellissimo Mi faccio un bagno Nel frattempo Porta al contrario Una croce Ok Tiro giù Tiro giù Qualche albero Ok Questo è andato Ma che palle Ok Mi ha tirati giù Due Siamo un botto Di tronchi Tra l'altro Sti Struntz Stanno rifacendo I totem vicino E non va bene Sì Ti tiro giù Questo è il nostro Territorio Ok Non mi fate incazzare La D Buone ste bacche Guarda quanti ne hanno fatti Hanno fatti un botto bro Ma tantissimi ne hanno fatti Proprio Tiro giù tutti No I tasti Permanenti Strano Strano Sì Guarda Una loro Roba Che io Sfondo Ok Ma che Che cazzo Sedi un rumore Che è Non lo voglio sapere Ah so So qua So qua Ok Io fugo Che oddio Sono qua questi Stiamo una mano Poi fuggiamo via Tantissimo Qua c'è un altro totem Chi è Ma Gli altri tronchi Ah no So qua Ok guarda Qua ce ne sono un botto Di Vieni Vieni Ok Cosa ho visto Vabbè Madonna Ma che è Eh li ho tirati giù prima Ok Boh ci siamo Un miliardo Siamo ci siamo Andiamo Mangiamo Andiamo in exploration Da Cosa abbiamo Una magna Eh io ho preso Un paio di robe Bravo Bravo Ma Più che altro per te Io sono full Oh è come la realtà Vabbè Vabbè Tanto abbiamo un depositino Vai Vai Ok Oh Aspetta Portiamo dentro questo Infatti che la porta si apre a stento Più che altro Più che altro Più che altro C'è il coso davanti Mi fai passare Aspetta Aspetta Togli prima tutte le pietre Ti non vorrei che Tranqui Ok Ok Perdere oggetti Vai Nice L'abbiamo perse tutte Infatti Va bene A posto Ok Ok Ho la colazione Diamo La Magro Magro Passa anche di qua Fammi cucina Hai la collection Arrivo Ah forse aspetta Che te ne riesco a prendere Abbiamo rifatto tutto Ho l'altissimo questo Passati Niente Va bene Ok Allora Metto la bistecca Che in realtà è l'uccello di prima Ma va bene Ma è già tu eh Che tanto io sono full Ok Ma io devo avere qualcosa che non va Perché il mio personaggio si Viene troppa fami subito Cioè è incredibile C'ho anche sete per dire Ma quello ci sta Poi mi bevo Mi prendo anche un antidolorifico Ok Bene No cazzo No Eh vabbè Ecco è qua Cazzo Vai vai spegni Ha funzionato Ha veramente funzionato Non la bevevo io C'è pazzesco Ah ma qua abbiamo qualche bacca Effettivamente ancora Che impiantare Piantiamo Si va Ok Io ho fatto proprio Mi sono fullato Aspetta Credo Sei frullato E' entrato E' entrato un gabbiano in casa bro Ma che cazzo Ma dove Dove è andato Con le zampe Però la bisogna entrare dalla finestra Curo Vabbè Ma ho dovuto mettere la roba dentro Nello stenditoio Andiamo Ma non è vero Che stai facendo Eccolo qua Che stavo già Così abbiamo lo spuntino Per dopo Imbrandendo Imbrandendo Guarda là Dove No Pieni zio Ok Porca Ho preso io Latti Andiamo Che volevo far valere le mie frecce Cazzo è l'altra Allora Ok io Ho bibite Ho snack Ho due gabbiani Stiamo andando Mi ricordo dove ho sparato l'altra freccia Se mi si riapre The forest Dico Cosa Eh mi si è chiuso Aspetta Maccia Ok Ok Con le bacche Fa i poffin Cosa vuol dire Poffin What is a poffin Ho perso una freccia Poffin Non so dove cacchio L'ho tirata Vabbè Sti cazzi Dai prima che diventi notte Let's go Ah lì c'è un indigeno Alla pozza solita Che penso mi Uno solo però JT bit Come in the pancrazio Caro Grazie mille Quanto mi fai se lo piglio Però ti faccio una statua Con le teste Degli indigeni Insomma a cosa è andata La freccia Mi sentivo tipo Prendo i degnetti La freccia nel ginocchio Come in the pancrazio Caro Grazie mille Una freccia nel ginocchio Si Lo perco E' tristissimo Questo è davanti a me E' veramente tristo Tristo Si va bene Triste Cammina Sconsolato Da queste parti Abbiamo ammazzato Guardalo Guardalo Poverino Hai visto? Si Aspetta Ehi E' scappato Niente Lui è Flash Gordon Column Mi chiede Lo preso in faccia Con la freccia Grazie Ok carne Per domani Per domani Per dopo Quando serve Io ti direi Di aspettare A questo punto sai Di aspettare che faccio Cioè notte Poi giorno di nuovo E' ok Aspetta la tutte le ossa Che abbiamo preso Ok E poi dai Facciamoci un'esploration Tranquilla Tranquilla Allora andiamo un po' Più in qua E poi perché quella Fatta bene Dobbiamo andare tutto Verso destra Ok Allora noi adesso Andiamo verso sinistra Ma non c'è roba Se porta Io gli distruggo Tutti i totem Si è Si facciamo Una spedizione Easy E per vedere Uh Che altro Se trovassimo Del cibo Bravo bravo Quello esatto Proprio quello Dobbiamo prenderlo Eh perché cibo Importante Quello Adesso Ti penso io Fratello Che a me Non vengono No Non posso guardare Ok Ho preso Ma che poverino E carne Cibo Se magna La D Jdbit Certo Ti saluto Un bacino Grazie alla donation Grazie Brozki Sono molto triste Ho fatto fuori La D E la catena alimentare Ok Noi che siamo Coccodrilli Dobbiamo cibarci di queste Le cornie Capito Cioè per forza È così Cos'è che lecco Insomma Vabbè Allora Di qua Andiamo Dove sei tu Sto facendo Catmiss Everdeen Eh Porca No dai Mi ero tarato Sta arrivando Tu stai a sparare i gabbiani Ci stanno due indigeni Sulla spiaggia Arrivo Prendono il sole O sono molesti Sono molesti Ok arrivo Minchia Che Ciot Oh What's up Ma tra l'altro Di quanto ti sei allontanato Ok Oh Come Oh Lascia stare La D Dove stai fuggendo Ciao fratella Vi è qua Parla con la mia amica Ascia Moderna È la madonna Però ci sono 187 indigeni Eh io ho visti Spaccalo No ma L'headshot Che ho fatto Ragazzi Scusate Cioè guarda dove Cazzo Vieni qua Ti prego Aspetta che devo Finire questo Da un chilometro Pam Dove sei? Qua Eccolo Lo vedi? Non vedo la freccia Però Ah la vedo Nella tua live Ok Una roba Sarzandendo Però c'erano tipo Un 6-7 indigeni Che hanno fatto il giro Dell'isola da dietro Andiamo Andiamo Bellissimo Ragazzi Stiamo aspettando Che arrivi notte Per poi dormire E partire la mattina Perché Tanto da mangiare Ce l'abbiamo Ma tra l'altro Con la pentola Che cosa si può fare Io non ho mica capito E poi cucinare Cazzo Io non lo so Cucinare in realtà Devo fare Allora Sta arrivando notte Che cosa potremmo costruire Magari anche Dica A tempo perso Delle trappole Per gli zii No Che è C'era Stavo cercando Un pennuto Trappole difesa Trappola per conigli Ma si potrebbe anche fare Trappola a mucchio di foglie Trappola a molotov con corda Mi sembra eccessivo Che fighe Che fighe ste trappole però Mi metto una trappola Con cappio qua Tandom Poi appena abbiamo Cinque legnetti Oh ma sta arrivando Un tornado Infatti io Cioè ti vieni E dormiamo Perché adesso arriva morte Arrivo Vediamo la porta Ok Allora sì E fino alle 20 sister Sto mangiando Ma in realtà Non è che mi Come venga molto Perché tanto adesso Andiamo a mangiare Quindi avremo fame Anche domani Allora è vera raccolta Aspettati Io sono curioso Di capire che cosa Si può fare con la pentola Secondo me tipo Puoi fare una sorta di tè Può essere E' proprio Vediamo vedere Equipaggia L'ho messa già Ah ok L'ho messa tu Aspetta La pentolaccia Possiamo farlo domani mattina Che almeno ripigliamo Dai dai Va bene Aspetta 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 Che non so se è notte Se la considero ancora notte Dobbiamo aspettare un attimo Perché secondo me Se li dormiamo Poi ci fa avanti Allora aspetta un attimo Che io finisco La trappola Quella di col cappio Sono curioso di vedere Come funzioni Qua Ok Mancano Tre tronchi Per finire il gioco Ci servono delle tessere Delle robe che ancora non abbiamo Ultimo trongo Raccogliete la linfa Con la pentola Ah la linfa La raccogliamo con la pentola Really Te ne manca uno di tronco Sì Ok Fatto Vediamo Come si comporta Vediamo come funziona Sta roba poi Eh Questa sarebbe Stata utile da fare Porca puttana Triggerata E mo Ci vuole un rametto Per rimetterla a posto Ok La sto rimettendo a posto La sto rimettendo a posto È la triggery Non ho capito come Però vabbè Vieni qua Vieni qua Dormiamo Dormiamo No D Quelle bacche No Ti fanno male Vabbè Good night Sbocchi Aspetta che accendo il fuocarello Tronchi ma non sporca Arrivo Eccomi Buonanotte D Oh Mi piace la presa Allora fammi vedere un attimo Poi con questa roba che la mattina ti svegli C'hai Ti vorresti mangiare un drago Fa strano Allora Cuciniamo Poco Io dovrei avere una tonnellata di gambe Cos'è strano Anche tu? Eh pure io tipo Allora aspetta Noi mettiamo due o tre E poi L'altro lo metto qua a siccare Quanto quella carne siccata Quanto dura? Lo so ma Ma in realtà non la puoi mettere Oddio ma tu hai messo la carne normale La carne anche una testa ho messo Ma come hai fatto? Ma che ce ne so Grazie Broschi La donation caro Certo ti saluto Grazie mille del bel commento Mi fa molto piacere Dice stato la tua infanzia Bella ziii Tanti ragazzi Comunque questa Dimmi che Dimmi che ci sono prostituzioni inutili Senza dire che ci sono prostituzioni inutili Eh si Alla fare serve per catturare i conigli No ma secondo me è la gabbia per i conigli Quella Cioè che una volta che li prendi Poi li metti lì Tipo Sarà quello Vediamo un po' se la gabbia ha funzionato Tra l'altro non avevamo chiuso la porta Dì siamo dei folli Ah vero No la trappola non ha funzionato Non è partita E un po' che deve essere partita Scusa Oh che ne so Devi esserci qualcuno Poi devi vedere qualcuno che ci va sopra Ma è per gli animali o è per gli indigeni Ma no è per gli indigeni Ah beh allora l'ho messa bene lì dai Ma che sei battito Ma gli hai tirato la freccia e non si è fatto niente Ok A colazione A colazione E' bello che stiamo essiccando braccia Teste Tutto tutto Va bene Sì fatti una bella scorpacciata Grazie Allora Allora Ancora un attimo è E poi questa maniata qua E poi se va Are you ready? Yeah E allora è il momento No vamos Con le pelli e le corde VAMOS Le sacche È il momento di andare Oh cribio aspetta Dica Equipaggia Cos'è sta roba? No forse una borraccia ho fatto bro Come hai fatto? Ho fatto una borraccia Come hai fatto di? No sto male Dove fai? Allora devi prendere la pelle di cervo O di quello che hai Sì Tipo due o tre E poi la corda Borsa per piccole rocce Borsa per? Piccole rocce Mi ha fatto borsa per piccole rocce Ok Io dovrei avere tipo un botto di acqua a questo punto Bevi Ah 100% Acqua pulita 100% Cosa ti serve? Cosa ti serve? No Zero manco una? No E allora no Grazie E poi te la doffero io in qualche modo Posso lasciare quei vestiti? Tipo qua Sì Di che puoi dropparle Quanti mi hai? Aspetta che mi li metto io Ok Ma magari quelli lì Perché puoi droppare solo tre cose? Ok va bene questo Va bene questo Andiamo Dimmi che vuoi uscire senza usarla perta Perché io la chiudo sempre Ok Ciao Let's go La nostra destinazione si trova a verso Alla derece Alla derece Alla derece Totalmente adesso adesso andiamo a esplorare Andiamo verso ignoti Posti ignoti Mamma mia rega Sccarico io Stiamo Allora siamo riposati Abbiamo mangiato Abbiamo bevuto Ho il 100% di una borraccia d'acqua pulita Madonna Io non ho neanche quello Ma penso che te la possa dare poi in qualche modo Speriamo Non ho portato neanche le bevande No? Io c'ho anche quella E c'ho anche gli snack Di non ti preoccupare C'ho tutto io Come quando andavo a fare scampagnate E mi portavo lo zen di 182 kg Quante sei? Esatto esatto Sono un fast food Sei il D& drive Oh buongiorno Io non li cagarei Ti cagarei Ci sono tutti se non li cagare Vieni qua No, no, no I'll have two number nine Oh fuck A number nine large Large with extra dip A number seven Two number forty five One with cheese And a large soda Cioè, ragazzi, fate una statua Oddio Che cazzo è che mi urla in faccia Fratelli, ma tutto bene Ah, mi son girato, gli ho fatto brutto Se n'è andato, bro, hai visto? Vedi anche in via Roma con quelli che vendono le penne Comunque Andiamo Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che frase è? Ma cosa vuol dire? Andiamo di qua No, ragazzi, no, aspetta Mi ricordo che c'era una caverna, non qua però C'era una caverna che poi dava sul mare, era fighissimo Una caverna? Che dava sul mare, non è qua però Una caverna sul mare Come sei romantico Allora, aspetta che prendiamo i bastoncelli Serve per farci il fuoco dopo Il mio personaggio è stanchissimo Ok, andiamo Oh, ma questa Oh, che cos'è? Eh, madonna No, aspetta, picchialo Ma che cos'è? Che la fai, zio? Prima l'hai picchiato, sembrava molle Ma infatti si smu... Bro Ma che cazzo di tronco è? Tutto bene, zio Sono tartufi? Penso di no Vieni qua Ma sono tartufi questi Vieni qua Ok Ragazzi Che stiamo andando? Cioè, stiamo andando in posti totalmente ignoti ragazzi Perché in realtà la voragine l'abbiamo trovata Però voglio prima vedere che cosa c'è a destra E poi c'è il finale Totale L'abbiamo sbagliata tutta comunque quella caverna lì sotto Se non lo sbaglio Quindi Eh, il più possibile diciamo Non era molto facile orientarsi Però Abbiamo fatto il più possibile Ma andiamo con la mappa Eh Ok, c'è un accampamento Oh Sono indigeni, dire È volata una valigia? Sono indigeni? Sì, sì A sinistra Dove sto guardando io adesso? Qua c'è del Mengala Ci sono Mengala Buoni Sì, la chiappa Se non ce l'hai Porte Queste servono Ok, let's go Mangia nel mentre Se vedi delle bacche Vero Ok Purtroppo ci dovrebbe essere il mare Basta Esatto Che isola Come tipo Lost Abbastanza Mette un po' angoscia Quest'isola E poi mi chiedo come Non c'era mai stato nessuno Prima su quest'isola No, sì, sì, sì C'è un laboratorio segreto La D Lo sapevi? Oh mio Dio Ma questo è spoiler Non lo sapevi? No Non lo sapevo Dobbiamo trovarlo D Ci serve una tessera magnetica Non lo sapevo Non lo sapevo Non si può andare No, non mi ricordo cosa serve ragazzi La tessera E qualcos'altro Prima che ci andiamo E poi non ci facciamo niente Perché in fondo Alla voragine Ok Non prendere freddo Mentre passi D Fai un salto Uh, qua c'è Le rocce Guarda, faccio così Nice Qua Ok Let's go Nice Ma mia Ambrosi un capriolo Eh, mi ha fatto Non so come sto facendo Aspettate Uh Ecco Niente Forse è meglio fare il giro Eh, si scivola easy Prima il giro, va Eh, un bel giro però comunque Ma questa qua è una È una prateria È la prima forse che becco Ah, lì c'è un villaggio bro Andiamo a vedere Aspetta che non vedo Ma che cacchio lo vedi Direzione delle case Gialle Gialla Lascia, lascia, lascia Lascia, vieni qua Ok Basta villaggio Andiamo per roba più importante Tipo L'altro pezzo dell'aereo Oh Coniglio Fa gara con me Tutto bene Mamma mia Ok Il mio personaggio sta crepato E devo tipo Farlo riposare un attimo Perché? È perché stanco Il mio personaggio si stanca tantissimo E vediamo se riesco a prendere sto cervo No, scappa Perché se riuscissi a prendere sto cervo Di Se riusciamo a prenderlo Ti puoi fare la borraccia anche tu Aspetta Sei fermo? Vai Ok Bello amato Mica Guarda dove lo Io però devi anche cadere a terra Ok Vai vai Prenditi la pelle Tra cui un eccio Un procione Che devo fare? Prendi la pelle E mo? Quante Quanta pelle hai? È Uno Allora Aspetta Con? La corda Fido tutto io Ok Con la corda Eh no Mi servono due pelli Tieni Ce l'ho la corda Mi serve l'altra carne Praticamente Dove la pelle? La pelle L'altra pelle Scusami Te l'ho data anche la pelle? Non c'è No non te l'ho data Ok non te l'ho data Scusami Ok ti è? Ok così mo ti puoi fare la La borraccia Scusami ho una Ok qua c'è anche una pozza Quindi te la puoi anche riempire Come si fa? Vai tipo per bere Devi avere la borraccia in mano Vai per bere Tipo con c Dovresti poter riempire No ma non è buona Quest'acqua comunque mi sa Non è buonissimo L'ho riempito Bene Due volte Quanto è bello pescare i pesci con l'ascia Esatto Bene Let's go Ok mi sto divertendo un sacco Ok Siamo finiti Perché siamo troppo a destra Dove stai fratello? Ti ho perso completamente Non è possibile Ok Io ti vedo Ah ok adesso si Vai da quella parte lì Uh La tua parte Vai C'è un altro cervo Eh Peccato a te con la freccia Infatti No peccato Minchia non capisco Non è possibile Minchia due frecce ti spaccano E io con l'ascia non ti faccio niente Vabbè Tanto siamo full carne Regà siamo full tutto Andiamo Ah Mi diverte troppo La di passione Cacciare gli uccelli con l'ar È troppo figo Tra l'altro Te lo giuro Secondo me Cioè in sto gioco Dovrebbe essere la cosa Ma penso anche nella realtà Sono la cosa più difficile Da catturare gli uccelli Come fai a prenderli con un'ascia Tutto anche l'altra volta Ma mi stupisce Ok Lo seguiamo di qua C'è il cervo di prima La di si è trasformata In un cacciatore Provetto È morto È morto? Sì È cascato da solo Povrello Ho colpito Non l'ho visto Andiamo di sopra Vediamo se lo troviamo Aspetta un attimo Quanto ci serve ciò 12 ok Ma lì c'è la neve Ma veramente? Sì Ci servono le racchettine Per proseguire Tra l'altro What? È un bel giro questo Ci serve per capire Dove siamo Cosa c'è in giro Dove è l'altra parte Dell'aereo Ah qua c'è un'altra pozza D'altro c'è un sacco di pesci Quindi veramente siamo Full cibo Qua c'è una cascata No C'è il rumore di una cascata Ma non è una cascata Va bene È qua Ah ok Degli indigeni lì mi sa Dove? Sì Come te lo spiego Davanti a te Vero Vieni passati qua Una tonna che botta Credo che sia di qua Iniziamo da vedere robe Sembrava un coccodrillo Invece era un tronco Va bene Un tronco drillo Allora poi fra poco Bro io Incomincerei a fare il fuoco Per magnà Oh guarda Ok Uuuuh Hai preso? No Che cazzo è? T'altro è in piedi su che cosa? Dai Meno merita Meno la faccia l'ho ripresa Prendibile Ah tanto c'è il cervo di prima Quello che abbiamo Scassato Che è ancora qua E qua sì Come no? Non è possibile Siamo a un chilometro la prima Come fa? No Era tutto rosso E allora l'avrà picchiato qualcuno Ma non noi Vabbè dai sti cazzi Tanto siamo pieni di carne Chi se ne frega Sì sì Carne sarà a posto E non li sti cervi Facendo dei giri considerevoli In luoghi totalmente sconosciuti Almeno abbiamo tutto Almeno abbiamo Esplorato tutto Prima che Qua non ci conviene andare Perché fa freddo Dico abbiamo esplorato tutto Prima di andare sul finale Ok Una ruota Eddi stavo guardando la mappa Per vedere se Se si capiva qualcosa Ma Capisco un gazz Ma che figo l'acero L'acero? Mamma mia Cosa sta? E qua è pieno di aceri Mmm Cosa è di? Sentito? Sei lento No no ho sentito Però il mio personaggio Si stanca in frettissimo Non so che cosa dirti Stanca in fretta Ha subito fame C'è incredibile Tu sarai in hard mode Io sarò in easy Non so No non è possibile È sempre uguale la difficoltà Per tutto Ma no Che figo Ti sembra una fortezza No Non so che cacchio Come devi essere equipaggiato Per andare sulla neve Ma non è roba Vado un po' più verso l'interno Sono dietro di te Tanto Sono dietro di te Almeno ci incrociamo Sui luoghi che ci interessano Ok Sono letteralmente dietro di te Sta arrivando notte però De Eh ci costruiamo lo shelter? Andiamo ancora un po' Qualche metri avanti Ci conviene dormire E poi mangiare lì domani Sì Come sempre Dove cacchio si è andato Ok Poi andiamo direttamente Di voragine Ragazzi Perché abbiamo già visto Un po' tutto Questi robi danno qualcosa In più Mi piace Porca Una volta che riesco a fare sto shot Regà C'è un cinghiale qua Really? Eh No fratello No Ho mancato Vabbè velocissimo Niente C'è uno qua Ok Quando arrivi qua Cioè io mi fermo qui Sono ci sono C'è anche un villaggiano Il mio personaggio sta solo morendo Ma ci sono Ma la barra blu Di fianco a quella lì Della stamina Che cos'è? Oh Perché io noto che ce l'ho Molto più bassa È lo storage di energia Quando io ti mangio delle bacche Mi aumenta La barra blu Ah Ecco perché allora tu stai andando più veloce Perché tu continui a mangiare Oh cazzo un coccodrillo bro Due coccodrilli Ho visto tutta la scena Era impagabile Tu che salti da due coccodrilli Che ti arrivano in faccia E' stato visto Qua si può dormire No Lancia potenziata raccolto Lancia potenziata Che storia Ciao shelter Vai vai facciamolo Allora Piazzo io? Si piazza tu anche il fuoco Rifugio di caccia Era ora rifugio temporaneo Non mi ricordo Shelter Eh aspetta Adesso c'è un italiano No rifugio di caccia Rifugio di caccia ok Qua Ok manca una pietra Ok qua Mancano sette tronchi E mo ci dobbiamo divertire Si Let's go Ok Firo giù questi Oh cazzo ancora sto coccodrillo Ma non si vede nulla Eh qua bisogna fare fast Vai D Basta Sotto coccodrillo Di me Quello che ti cade il tronco In testa zio Vediamo No giustamente dall'altra parte Sullo shelter magari anche Mamma mia quanto urlavo Quanto urlavo Si Lui sta ancora tagliando Oh porca troia è caduto Però non vedo dove cade Meno male che non mi è caduto Adosso Meno male Perché non mi stavo vedendo Ah coccodrillo Hai rotto anche quattro quarti E vattene Batini Con sto bastu Ho l'ho ucciso Non so dove cacchio Sono gli altri tronchi Pensate ho fatto fuori un albero Ho distrutto un albero E non capito dove sono cascati i tronchi Cioè Boh Meraviglioso Ok Tanto ne manca solo più uno bro Basta che ne porti uno E via Eh trovarlo Mi piace i coccodrilli Occhio che uno è proprio dentro Cascati 82 tronchi Non ne vedo mezzo Aia No ma è inutile Non so dove sia Cazzata Che è successo Non vedo niente L'ho scassato No Ok Oh Vuoi crepare zio Oh Mamma mia Oh Dove cacchio è cascato il tronco Ero andato tipo di là Io qua non vedo nulla Sì facciamo prima tirarne giù un albero bro Cioè Tirare giù un altro scusami Che cazzo è Non è possibile Non l'ho tagliato lontano eh Ok Eccolo L'ho trovato Ecco Giusto Sembra giusto Lo metto prima io No Era andato velocissimo Possiamo dormire Let's go Boh se magna Madonna C'ho un miliardo di carni Io pure Mamma mia quante ne ho Un miliardo Mamma mia quante ne ho Questa qua Io ho pesci Carne Pelli Asci Castosci Sono pesci Asci Castosci Che bacche Sono buone Un pezzetto Le bacche Fritte E poi Ok Ok Dì io so full Io ho bevute Dì sto full di bevute E ma venga Ne mangio ancora un pezzettino Tanto sennò Ok Adesso si che si ragiona Cacchio Cacchio Mangiamo anche due bacche Ho mangiato i funghetti Ho vomitato Che cazzo ho mangiato Ma ha fullato tutto subito Sì sì Che cacchio è No sta roba è fuori di testa Ma cosa abbiamo mangiato Scusa Pazzesco Ho mangiato otto volte Vedi la carne proprio Guarda qua Non ti trovo Andiamo dai Let's go Andiamo È il momento della voragine Ragazzi Se riusciamo ad arrivare Alla voragine prima E passare prima Dall'altra metà dell'aereo Sarebbe ancora più figo Ma dubito Perché non so dov'è Adesso siamo Adesso il mio personaggio Corre veramente velocissimo E si gode Eh penso che Dovevamo craftarci la moto Come si fa? Due stick Due pietre Mi ricordo una volta che Quando giocavo Oblivion Ti ricordi Oblivion? Sì 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 Di Hello Scrolls Quello prima di Skirim Praticamente Ragazzi c'è gente Aspetta adesso Porca di quella miseria Ignorali 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 Sì Sbattiamocela Mi ricordo che c'era una mod Per scaricarti la moto In Oblivion Ma cosa? Il discorso è che Sai quanto Sai che scheda grafica Dovevi avere Per renderizzare Tutte quelle robe Mentre vai avanti Con la macchina Tu Oblivion Sì Vedete ti 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 esplodeva Abbiava il computer Non sono le tende Niente male Ma le tende non sono Che cazzo è bro? Che si c'è bro? Che è successo? Bro Che cazzo? Ma che cazzo è quella roba lì? Oh shit Sei pazzo? È un pozzettino Eh ma lui è Price Per te li tiro qualcosa? Aspetta Non succede Ma se succede Au com'è? Bravo Adesso ci passa sopra No Mamma mia L'hai preso Minchia l'albero è cascato Ho preso Ho preso Ma che cazzo sei Brotello? Oh merda No No Madonna La G Che qua che t'ha affetto il culo No T'ha affetto il culo Bravo Fratelli Coppia Non si è fatto niente L'umore Come se avesse solo scorreggiato Mi carica Aiuto Madonna ti vedo che fai dei voli Aiuto È molto l'aggir Che sciolto Quanto ti ha elevato Scusami Tantissimo Cioè sono rimasto veramente con pochissima vita Mamma mia Due boss ce li siamo fatti Sti episodi Due su Non so quanti Tre e quattro Eccola qua la voragine Proprio dietro la voragine Il problema è la dinamite che adesso manca Che cazzo è? Manca la dynamite Se Ma nelle tende qua non c'è un tubo Per mettere la dinamite su di alberi Sta cosa è pazzesca Lo sapevo Per fargli cadere Eh ci servirebbero le dinamite In quel posto delle dinamite Vabbè dai le troveremo qua Sono finito Uno di quei bambini brutti Ok Di quanti? C'è più Arrivo Che mi stavano picchiando Arrivo Dove stai? Eccolo Dobbiamo ritroverlo Eccolo Proprio qui Oh c'è un altro boss Ma dai ragazzi Che palle Ma dov'è? Ma chi è? Ah è lì Ok l'ho visto Tienilo Stai fermo? Non farei niente adesso Anche perchè io non ho la dinamite Mannaggia Un po' di Molotov Dov'è? Però la dinamite Davanti Madonna Lo ho preso? Merda no Ciao Ciao Sei proprio bello Zì Nice Oh Non devi colpirlo Ma poi Vuoi crepare Fratello Ho fatto un salto in avanti Come nel momento sbagliato No sto morendo Sto morì Sto morì Fortissimo Devo fuggire? Guarda Guarda No Sono arrivando anche altri indigeni bro Ho dato fuoco È pieno È pieno bro Ci sono anche altri indigeni Vero che c'è quella roba Vero che c'è quella roba A posto Ho sfogliato Ma cosa? Armature inquietante raccolto Vabbè Io vado a fare fornare anche questa Mi ha dato un'armatura inquietante Ok A posto A posto Sono morti tutti Ok Sì 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 Ma si butta la ragione No Non è morta Ok Morta Vabbè Questo è invincibile Fratello Ho tirato fuoco sette volte Una sciata elegante Aia Una sciata Sei andato a fuoco Colpa mia Occio Cazzo Quanta gente che c'è Aspetta 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 Non ci credo Preso te Pazzesco Pazzesco Vabbè anche lui dai Morto Come urla il mio personaggio Aiuto Morto 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 Lo scuoglio Sto morendo Nice Beh Mamma mia Un miliardo di boss li abbiamo fatti Beh Poca miseria Ora mi ho avuto di scendere nella caverna Ho fatto due miliardi di boss Va bene Porca miseria bro Madonna raga GG Ma erano tutti qua Erano Ma che cacchio è Si va Eh andiamo We just go deeper Mamma C'è un altro indigeno dietro Ma Ho integrato 80.000 Mostri Bene A tutto punto ci dobbiamo Cazzo è Mi sa No sono morto Ok No sono caduto Perché si era Vabbè ragazzi Vabbè dai ciao Che giocata è stata Mi sono staccato Mi sono staccato dalla corda Non so per quale motivo E sono caduto nell'acqua E sono vivo Per miracolo Che culo Ma poi ho fatto un tuffo pazzesco C'è proprio un cartiato E' vero raga Ci dovremmo fare l'armatura E' vero Se tu hai le osse Addì la facciamo Eh si Io adesso me la faccio Ma che cazzo fa Lo accende nel fuoco e beve Si beve il fuoco Lo zio Taglie Ok Stanchissimo il mio PG Allora Ossa Così Questo Vai Dossa Ma il bengala Che cazzo Ah Oh Minchia Quanto vedi bene Quel bengala Ok Basta Qua c'è qualcosa Aspetta Dai mi servono ancora Vossa Va bene Niente Bella Io ho due tacche di armatura Not bad C'è una cosa interessante Si C'è un foglio E il foglio Non ho visto Qua Bello Chiaro Eee Poi c'è un po' di Di carne a cucinare Da che ce ne sono Ci sono Ci sono Qui Aspetta un attimo Ah vedi che le caverne sono unite ma lontane Questa è quella di prima Bravo Bravo Niki Ok Non c'è nulla Bravo Niki Aspetta Ma in teoria Ste cose dovrebbero stare anche sotto l'acqua Ma Ok abbiamo visto Beh comunque sta roba di bengala Dovremmo farla più spesso Perché Sì vero Cazzo sta roba Martina Va bene Allora le strade sono due Ok Dimmi Sono due Allora Oh Aspetta che mangio Ma che cazzo sta bevendo Ma effettivamente Non capisco E stai pure male poi dopo Col bengala Ma cosa bevi il fuoco Cosa bevi C'era da mangiare Non so Io la carne Te l'ho mangiata io Mannaggia Ti cucino un pesce E di così te lo puoi bere veramente Ma io veramente Bella sta roba Io ho detto che l'istruito ci sono due boss No abbiamo uccisi quattro Uno due tre Quattro abbiamo fatti Tre uguali E un Un altro Completamente inaspettati Almeno per me Cioè Stai cucinando De Sì Ti avevo messo il pesce Ok è pronto vai Magna Che devi crescere fratello Ma io bevo Ma perché Ma che problema C'è l'altro personaggio Madonna guarda Oh Oh Vamos Allora le strade sono due Una E qua sotto Credo Anzi guarda vado a vedere Vado io C'è qualcosa di brutto qua Se non sbaglio Perché se tu vai qua sotto Forse c'è una fessura Dove puoi passare Se non c'è Fa niente Che cazzo è sta roba Ok Che cazzo Ok C'è un tizio Eh Coloro Vesito di rosso C'è un tizio Si strano Se hai bagnato E di freddo Vabbè questo l'ho capito Ma tanto c'è il fuoco fuori Ho fatto il posto Poi non c'è nient'altro Ok no Allora abbiamo solo Una direzione One direction Eh Se la tolgo Ho capito adesso Scusami Mi ero impegnato a vedere Il tizio impalato Sott'acqua Davai Lo stai guardando No no Mi sono tuffato anch'io Per vedere Ok Cambio anche i vestiti Verde jeans Mi metteci Bello di cerco Ok ok Sono pronti Va bene Eeeh Let's go Siamo Quindi la via che hai trovato Qua Ok Are you ready C'è la roba per scendere C'è Nice Let's go Let's go Come on come on Chop chop C'è qualcosa di C'è una sirena Cos'è Ah no È ben caro Mi sono Ma che cazzo di jumpscare Ma questo è pazzo No Dì c'è C'è quello lì Sopra gigante Guardalo Che testata Dato Eh Dall'accettate nel culo Non so come dare di fuoco Con la torcia no Prego Oh mio dio Questo è pazzo Eh vabbè Vai Vai Dì Umicalo bro C'è una barca nel niente No vabbè ragazzi Ma che cazzo Picccia 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 di picccia di picccia di Dopo Piccchio 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 C'è la sua tattica Vabbè È morto o non muore No È morto è morto è morto è morto Ok Che team siamo Va bene D'altro lo posso scogliare A proposito Vediamo un attimo Eh esatto E niente Io lo bevo Ok Io bevo i nemici Armature inquietante Faccio un attimo che le mettiamo Se armature inquietante Prima la son messa Che non lo so mai faccio Di viene nell'inventario Lo trovi Equipaggia Ne ho messe tre Ne avevo Bellissimo Armature inquietante Allora Che da là siamo scesi Cazzo sta roba Ma sì vabbè anche senza di adesso Solo perché quando abbiamo le caverne grosse Secondo me ci serve Tanto sono veramente pieni C'erano tantissimi Eh ma poi ci serviranno Guarda qua Fa secondo me c'è qualcosa di interessante E infatti Tipo il player Madonna pieno Che no niente Usiamo questo Cazzo succede ogni tanto A sto personaggio Non lo so Lì beve le cose Ma qua c'è qualcosa da vedere Cosa c'è Cosa c'è Una rivista Sembra Io ho una cassetta Basta Non la vedo io Non la vedi la rivista No Ma queste sono dinamiti Di Uuuu Ti fulli con queste Tatti sono full Sono full Fullati Fullati Ritorneremo qua se Nel caso dovessero riservire Eh sì serviranno sicuramente Qua c'è qualcosa C'è alcun La vernice Don't be afraid Just believe Do you believe In the after the Ok Basta I can feel something Inside Beh Eh C'è ho trovato vernice Ma non ho trovato come mettermela Ma in teoria dovremmo avere anche un pennello Ma io la vernice Quando la prendo Dove C'è dove canzo Esatto esatto O è nello zaino No Non c'è Cioè non c'è la vernice poi Mi dici Nali col tasso 3 Non ricordo Non c'è Tu te la prendi Boh Magari se la mette subito Boh Non lo so bro Però non la vedo io C'è un muro Aspetta No Questo muro la fa saltare lì Mi convince Ok Sicuro Anche perché se c'è Sì 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 Sicuro Vado io Vai Tranquillo eh Tranquillo Ti lancio un candelotto Tranquillo Mi sono arrivate 18 rocce in bocca Ah puoi anche Passarci attraverso Passare attraverso le rocce Ah ma tra l'altro C'è il coso per posizionarlo Proprio E direi che vuoi E mica che divertimento C'è se non la lanci Stile Magnum testa rossa Ok Stiamo I corti Madonna Quei tempi Si sale adesso Si sale Aspetta 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 Fermati Ah oppure vai una ma scoperta tu Vado io Vado io Stento delle brutte cose Onestamente Provato Ho fermato E per quel letto Vai una ma scoperta tu eh Esatto Grazie di Così si trattano gli amici Vado io Vedere dove cazzo siamo Ciao Cosa che c'è Nessuno Per il momento No invece non è vero Puoi recuperare vita con i fiori E altro materiale Black wolf Non lo sapevo questo Fiori Con i fiori Non ti voglio vedere Mamma mia La te Guarda mi vada dietro una porta Scusami Usa la lancia Guarda la lancia Che non è male Magari usano in modo più Sti bambini L'ho lanciata proprio Mi sembra un po' troppo Oh fratello Non ti farmo Non fa riuscire Vai Vittoria E allora Aspetta A dietreggiare Cazzo Fai un walk Vittoria Non sta vivendo mai nella vita Ci vediamo martedì Ci rivediamo martedì Assolutamente Però guarda che bello Adesso arrivo Dì che c'è qua uno che salta Ma qua c'è un fuoco Tra l'altro Ma schivato che cazzo sei Matrix Ok Aspetta 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 che c'è roba Aspetta 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 Energia Energia Ho corde Ho lanciato Puoi lanciare la lancia Proprio In batch Giustamente Dall'uomo Vedo perché tu non dovresti lanciarla Però devi fare attenzione Che magari sbagli il Versaglio E prendi la D La D Quello sicuramente succederà Ok Allora Bello Ecco di là c'era qualcosa di bello C'è una caverna gigante Attenzione Parazzo con mega raccolto Bene Intanto io mi bevo un po' di roccia Mi bevo un po' di roccia Ma come fai Lui E la madonna What is next Ah C'è un'altra corda qua Da climbbare C'è roba qua E Recuperare vita Cosa Your lucky numbers C'è Lost Aspetta Novanta Novantotto Non leggo neanche Orestamente Vediamo cosa c'è Di sopra Secondo me non c'è l'uscita Ricordiamoci che indietro c'è un'altra strada Ok Io ti aspetto sotto Nel caso No non c'è l'uscita Assolutamente C'è nulla? No Aspetta però Aspetta 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 Un po' inquietanti Queste due teste qua Comunque Anche un cellulare Tra l'altro Ormai diminuisce la batteria Aspetta 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 Che cacchio porta Sto posto qua Ah c'è un'altra corda Che sale Stai ancora lì Eddie? Sì sì Sono qua Vai all'imboccatura Dell'altra entra Perché c'è un'altra via Così almeno sappiamo dov'è Dov'è che devo andare? Scusami Ma devo salire? No No Vai nell'altra via Come se questa corda non ci fosse Ok Non sappiamo dov'è Io così torno in India Perché se non ce la perdiamo Fuori lì Aspettare È totalmente dark Quindi è nulla Io ho paura di beccarmi Madonna Quanto tempo per salire sta roba Anche ho paura di beccarmi dalla roba Soprattutto adesso se salgo qua Sì sì bro Qua c'è un boss Arriva Mi ha visto sia grato Non ci credo Non ci credo Scappo Mi sta inseguendo Andare troppo distante Perché Dovevo ritrovare il posto Che cazzo sta andando di qua Che posto è? Fuori di fare sta roba Esco da qualche parte Scusate Che credibile Sì sì lo so Pannocchia che devi selezionare lo zaino Mamma mia raga Che ansia Allora aspetta che mi faccio le molli Nel frattempo magari Allora combina Con questo Quanto cacchio Eravamo in basso Scusa Ah ok Qua si è uscito Ok Sono uscito Sono uscito E siamo Ma per favore Ma per favore Dove cazzo eravamo? Ok 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 vabbè Allora La casetta rossa Nella casetta rossa Abbiamo un checkpoint Va bene ragazzi Questo è il checkpoint Ma allora Posso fare una domanda Ma secondo voi Questi posti qua Spawnano dal momento In cui tu esci Oppure c'erano già? Perché ci sono certe caverne Che a volte non vediamo E che dico Mica ma è impossibile Che non ce ne siamo accorti prima Capito? Eh Non lo so Oddio onestamente Perché effettivamente Mi mangio una barretta di cioccolato Ok Allora bro Allora se tu ritorni Dove sono io E andiamo nella strada Principale Diciamo Lì c'è il boss Quindi dobbiamo fare Molta attenzione Infatti io ho preparato Già le molotov Sono qua Oddio Pensavo si fosse staccato Mi stavo cagando Adesso Comunque se Se per caso moriamo Eccetera Abbiamo un accesso più easy Perché mi sono studiato Come rientrare Nella casetta rossa Ci sono già Si sicuro Pannocchia Perché Tipo io questa qua Vi ricordate la scorsa live Che eravamo usciti da lì Ma come cazzo è possibile? Come cazzo è possibile? Che adesso siamo usciti di nuovo E c'era quel pezzo lì Che non avevamo visto C'è assurdo Comunque mi mangio Io mi mangio due snack Perché qua è pieno Vai vai Magna Però vabbè Almeno sappiamo come scendere Dov'è il boss E' da D? Di qua D Preparo già la D Dynamite Bravo E quello lì Sembra una mano Tipo C'è un figlio E' un figlio della madontina Eccolo Merda Mi sarebbe preferito beccare anche lo zio Lo zio riesce a picchiarlo Dì stanno scappando Non li vedo D Un è qua Un è qua La mano è qua Te l'ho lanciato Le diamità Togli Togli Tira lì Aiuto E' morto? No Quasi Togli 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 Vai 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 Ok Questa è buona Mamma mia Nice Ok l'altro non è morto Chi è qua? E questo qua è il vero boss Ma che tra l'altro lui ci corre di fianco e basta Ehi fratello Se ti vuoi fermare Certo Niente Incredibile Ma chi è? Niente Vabbè lasciamo così E' il nostro compagno lui E' Don Ghi va a farci Ok l'ho capito Bravo Un altro In due E' crepa Nice Niente Non muore Ok Nice Ok Allora Devo mangiare cioccolato D per forza Allora Ok Dai Questi Bene Che roba interessante lì Non c'è un cacchio nelle A posto Attenzione Qua c'è un botto di gente c'era Che abbiamo fatto il fuori Forse c'è ancora qualcuno Quindi attenzione Sì sì c'è 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 c' Sì, sì, c'è, c'è E sta te! Sta tutto il break Ti sta tutto il break Lo faccio anche in real, mi sa, vado a prendermi solo una bottiglia d'acqua e qualcosa da sgranocchiare No, guarda che puoi bere dalla roccia, volemmo Sto bere dalla scrivania, magari Allora, vediamo un attimo dove siamo Potremmo anche dormire, cioè, la butto via No, dormire non ha senso, perdiamo solo cibo Vabbè, tanto siamo veramente pieni Cioè, io c'ho, a parte che mi è andata tutta male, però Eh, allora non abbiamo niente Tieni, no, possiamo salvare la partita Eh, salviamo, salviamo Uuuuh, god damn C'è solo un giro qua per vedere se c'è qualcosa Ecco, infatti c'è roba, aspetta C'è roba, vieni un attimo qua Arrivo Un cuore, questi Per Isaac Esatto, Dubai League of Isaac 3D C'è una panchina Ah, c'è un'altra via qua, proprio che si può andare O no? No, si interrompe Ok, allora dobbiamo andare di sotto, vai Si salva la partita e vamos Ok, io veramente faccio solo un piccolo break Vado anche un attimo in bagno Breccati Raga, brecchiamo un attimo Facciamo, faccio mettere il break anch'io Ma tipo due minuti Si, due minuti, io devo andare un attimo in bagno e ci sono Tempo di fare la pipì e tutto Salvo la partita e facciamo un mini break, raga Tre minuti e ci siamo, ok? Taglio, taglio Let's go Ata poco Ata poco Grazie 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 Sì perché non c'è, è passato nel break la... Eh ma ci ho pensato dopo, ci ho pensato dopo Tranquilli Tranquillo Allora io mangio Devo anche delle sode Ok, a posto, sono carichissimo Si va? Allora io sto morendo Ma tu hai visto che cosa hai addosso? Ma ce l'ho anch'io quella roba che hai tu addosso No in realtà io ne ho preso un po' di più di quelle robe lì Dovremmo mangiare Perché sto morendo Eh eh Play snack, hai tutto? Sì sì aspetta perché essendo in pausa Dov'è l'acqua? Che la sento Allora uno, due, tre e quattro Eh snack siamo a posto L'acqua dov'è? E la borraccia in teoria no? Sì vabbè ma c'è l'acqua Ma la puoi bere questa? Non so Sì Mica posso bere le rocce e non posso bere l'acqua Eh infatti Ok Ci andiamo? Vamos Pronti regà Tu fa bomba? Ma dov'è? Ah eccolo La D Aspetta Vai Boom Il tutto di bomba Ok E' un po' di metri Non l'abbiamo salvato ma fa niente Questa è una bomba di ossigeno Sono travi Sono tutti i cadavere di questi Ok Sono usciti di qua Perseggero ho trovato posto 8D Aspetta 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 Ti cadere tutti in acqua quasi Sto correndo come se non ci fosse un tomorrow Lena Non vedo niente Dai Sei incastrato Meno male No bro sono veramente troppi Io sono Mi sono buttato qua Aspetta che lancio un bengala Sono veramente troppi Uno che si è incastrato Vedo 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 vieni qua Aspetta Ti stai portando tutti Madonna Ok Ok Sono incastrato in due Merda No Sul fuoco Ma cosa è passato Nell'unico punto Ok No è impossibile Aspetta Aspetta Ma quanto sono veloci Tra l'altro Ho freddo bro Ecco qua Grande Loro no Loro mi sa che Hanno finito di avere freddo Che cazzo fa No ho finito la lacca No Eh anch'io prima l'avevo finita bro Infatti è un disastro Dai vieni Sì vieni così Morto Ok 3 4 Li abbiamo fatti fuori Attenzione Rimangono Quale Puzzette Aia Occhio che Sembrano Intima Ok Facciamo un fuocarello Al volo bro Perché io c'ho freddo Ok Allora Li togli qua Grazie che ho bevuto i vestiti Uh Nice Mamma mia Tasty Arrivo Ma come facevi a non avere freddo Tra l'altro No un po' avevo freddo Mi sa Non lo so Non l'ho visto bene Mamma mia Ma quanti erano Tantissimi Ma secondo me non sono tutti Tra l'altro Perché impossibile Ma alcuni sono caduti in acqua bro Cioè io mi sono buttato in acqua Appena l'ho visti Oh questi qua c'hanno gli orologi Bella No io ne ho troppi Prendi tu Attenzione Le ho presi E questo c'era anche Questo Ci sei te? Sì sì Sono dietro di te Altra acqua Mannaglia Ah no Ok Non dobbiamo andare di sotto Aspetta Può fare anche così Può passare da qua Guarda lì C'è una luce qua sotto Potentissimo Dove cacchio sei? Ma che cazzo? Per passare dal muro De Salta 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 La De Eh si è sfondato le gambe Il mio personale Sei? Vai Sì sì Seguo C'è un tizio Arrivo Due sono Eh non li vedo Sto picchiando a vuoto Forse sono anche più di due Solo che questi qua Corrono fortissimo Eccolo Dove vai zio? Buono buono Marta va Oh Sassi che saltano Presi tutti e tre? Questo è vivo Ora è morto Questo affare qua Non sembra che non faccia danno Ma fa un danno allucinante Ok Qua c'è un'altra corda La De Vamos Da quanto siete nelle caverne? Boh da In realtà non mi ricordo Ma non da tantissimo Perché abbiamo tolto la voragine Eh però siamo andati belli avanti Così Fammi togliere sta roba Che tanto non mi serve più Ok Qua c'è una scritta Attenzione Dove? Cave C'è una scritta nella mappa A sinistra Dice cave qualcosa Vero Siete qua Sia che salto che hai fatto Marca miseria Bellissimo da vedere Uh qua c'è un'altra Uh Cosa? Buono buono Ho bevuto un po' di fuoco Vieni Snack buoni Ah qua posso salvare C'è la dinamite tipo dentro No bengala Sono bengala Ok Puoi andare qua sotto? Oh no Vabbè vado a vedere tanto Vai Tanto c'è il fuoco Cazzo C'è una bombola di ossigeno Ok Allora di qua volendo si prosegue Da sopra Certo Arriva Sto solo guardando se qua Di qua di qua Ah ti stavi riscaldando Ok Sì sì Di qua si passa? Sì Oh di qua si esce broschi Ma come? Ok ok vabbè usciamo Strano però Perché non Non abbiamo Non abbiamo Dove è la voragine? Cazzo è la voragine? La voragine è qua È dall'altra parte Che giro No Questa è la voragine Scusate No Cazzo è la voragine? Ma che strano Cazzo è la voragine? Abbiamo fatto un giro pazzesco Vabbè allora passiamo da fuori Che vi devo dire Abbiamo fatto un bel giro Eh ragazzi Indigeni eh Dove? Lontani ma ci sono Non Poi era l'accendino Che non serve Non serve a niente Adesso Questo è l'altro pezzo di caverna A meno che non abbiamo Dimenticato qualcosa No Beh andiamo a la voragine Allora Chi se ne frega Let's go Non mi ricordo dov'è Ah bro Io considero che sono Completamente nelle tue mani Guarda quanti conigli qua È gialla la voragine ragazzi Non mi ricordo No a parte che ci sono due gialli Dove cacchio? Ma perché sono stanco Come la merda? Vabbè Allora o ci dobbiamo riposare Cosa che potrebbe comunque essere Perché siamo in giro da tanto Aspetta Mi distruggo questi Yeah Sto vedendo se Questa è la voragine Ok Niente Siamo tornati qua Eh niente Allora scendiamo Ok Vieni qua Io so già che mi Mi ammazzo tantissimo Bro Eh allora Io farei una roba Farei una roba Salverei un attimo Ok Tanto qua abbiamo uno shelter Va bene Salviamo No vabbè Ma è mortale sta roba Scusami ma Non si può tipo costruire Una corda lunghissima No Perché tu dovresti trovare Un'entrata Che Allora Lo vedi che là nel mezzo C'è qualcosa Sì Eh dovremmo scendere lì Ah Non so come farla ragazzi Sta roba Però proviamoci Non so come No ma ci crepiamo Tantissimo Bro Tanti Devi filarti Dall'altra D Che cazzo è Ah sono gli indigeni Vieni vieni P Guarda aspetta Quanti quanti Medichito Vabbè un po' Minchia Raso raso Dove vai D Ciao D Sono vivo Sei vivo? Come cazzo faccio Essere vivo Aspetta che Prendi un po' di questo Ecco Io non ho avuto La tua stessa fortuna Però Ragazzi Porca di quella Miseria Ladra Vabbè ma Guarda mi basta Arrivare io Perché poi da lì Capisco come salire Mi è per riavviare Cosa sto vedendo Cosa vedo Cosa vedo Tu non riesci a venire A ressarmi Ma figurati Ma io sono vivo Ma non so come in realtà Perché avevo finito la vita Non so dove sei No Eh potresti tornare tu sul tuo corpo Provaci Eh ma come cazzo faccio Broma Cioè un conte se mi fossi lanciato Sul Come si dice Proprio in mezzo la voragine E quindi magari In qualche modo Magari ci potevo tornare Ma così Perché non mi da neanche l'ascio C'è che ho capito Allora io forse aspetto Eh ma non lo so Forse perché è sparito il tuo corpo No davvero Ma in assoluto ci conviene Ricarichiamo magari Ok Dai Vai 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 Ricarichiamo Ricarichiamo poi scendo io E lascia Che scenda io Ok Perché sennò Lost non risponde La D Come mai non mi rispondi più Eh non lo so D Dai oh rispondimi 17 Ok The forest game What? What? Che fai? Eh non lo so bro Io ho accettato il tuo invito Sta diventando giorno notte Ma esci Ma dove è uscita la partita? Vabbè Ah Ciccine saci Vai invitami bro Sorry Ok Continua Bene Ok Vado io Lascia Ok Ti aspetto Ti aspetto Ti aspetto Ma che tra l'altro bro Io ho fatto Esattamente quello che hai fatto tu Cioè Esattamente quello che hai fatto tu Ma infatti adesso non mi funzionerà più Sarà un problema Aspetta Cacchio sono andato Ok No non è da qua Non mi ricordo L'ho sceso di qua o di là ragazzi Mannaglia Ma no Mi ricordo più Aspetta No Bro ma io sono da solo nel nostro Del nostro accampamento E quanta roba hai? Lontanissimo da te Quanta roba hai? Non ho tutta la mia roba Ma no Ma perché? Prendi al gioco e rientra Strano Ti ha fatto Cioè ti ha Ti ha fatto spawnare lì Ma non so perché cosa mi chiediamo Ti ha fatto spawnare All'accampamento bro E non so come mai Non ho altri salvataggi tra l'altro Ma forse perché Conta i miei Niente infatti Adesso sono morto io No Eh infatti non ce la farò più A fare sta roba Porca Sbam Visto adesso In diretta Niente Aspetta Ricarico Ricarichiamo tutti quanti insieme bro Anche se non è che serva molto Perché prima Sicuramente ce l'avevo fatta Per un mezzo bug Capito Eh no ma infatti Cioè Vabbè in caso Se non gli ridà la roba Potete sempre fare Il trucco Degli scambi Mmm Sono t Quando vuoi Senza trucchi Lo finiamo Senza trucchi Solo con cadute Pseudo Cadute Facciamo il volo Dell'angelo Anzi dell'aquila Ok Sei stato invitato nella lobby Nuovo o continua Cosa vuol dire Vabbè faccio continua io Ok Ma non lo so Perché io prima Sono riuscito a sopravvivere Per un niente Capito Lo sei? Eh mi sta caricando Io bro ho paura Che effettivamente Ma io ho salvato No però no No ma infatti Ma io sono rinato qua bro Sono rinato qua di nuovo E non c'è di nuovo Tutta la mia roba Ma che palle Non so Niente è persa Non saprei come riprenderla Perché Il salvataggio è questo Eppure non ti sta caricando Perché si vede che Non ho salvato io bro Devevo salvare anche io Mi sa In realtà no Perché il salvataggio è mio Credo A me sono sicurissimo Comunque non è tanto questo Ma il fatto che non riesco più a fare sta nuova Le trappole che ho messo ci sono C'è tutto quanto Non capisco Non riesci a rimuoviti Non va più Sei svampato tutto Fratelli E adesso devo continuare a fare così Finché non riesco Quindi andiamo avanti tutto il giorno Vedete Ti spectro dalla live a sto punto Cioè E joini quando riesco Ok Eh Ok Tanto a me comunque Mi fa spawnare l'accampamento Bro Quindi sono lontanissimo Molto strano Molto strano Potrei provare a caricare Eh no Ma non si può caricare Il salvataggio prima Niente Chissà come cazzo Ho fatto prima Che devo bere Cioè prendere un'altra medicina Ma si può fare una corda quindi Francesco Per Per scendere Sei sicuro Non si può fare C'è una Ma Un attimo Forse dirà più facile C'è una Caverna Che collega lì Che però non sappiamo dov'è Cioè ero comito fosse quella lì Che avevamo trovato Capito Martina Grazie alla donation Cara Madonna sto cadendo Prima ero riuscito Non ce la farò mai più Never and ever Che merda però Mamma mia Che nervoso Su tutto Vedai proviamo al massimo Buono Buono Va bene Adesso vado di qua Ok Nice Senza farsi niente Praticamente Pazzesco Che culo Sei arrivato? Quasi Sì sì Yes Cioè no Aspetta C'è l'ultima roba Fatto Eh vedi Dovevo salvare anch'io Raga Ok Ok No perché il salvataggio È mio Capito Eh ho capito bro Però non lo so Che cazzo è successo Allora Non lo so Cioè è molto strano Credo che sia un bug Vabbè comunque adesso Vedo se riesco a trovare l'uscita Eh non mi ricordo da che parte Mi pare di qua Dall'altra Quindi adesso devo trovare l'uscita E trovare dove cacchio è E quando trovo dove cacchio è Possiamo scendere l'ondamento Vabbè che in realtà puoi scendere anche tu di qua Prendi lei le robe Lei presele all'accampamento Ah io sono uscito bro Sto aspettando che tu riesca da Eh Ti invito Ma cazzo si invita Ok 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 Continua Magari c'è Dovevo salvare anch'io secondo me Dovevo salvare anch'io Vabbè NP Ci sei? Anca di canzo Ok si ci sono Ok torna qua Prendi più che puoi E torna qua Eh sai che ci metterò 16 anni Allora ti aspetto Perché non ho salvato Nella grotta Perché Naggia a me Secondo me non è quello Comunque Però Mi mangio Due bistecche bro E arrivo Sto morendo di fame Grazie per avermi detto che sotto l'albero c'è la pistola che ho trovato nell'episodio scorso Due parti della pistola Tra l'altro anche se le riuscissimo a mettere insieme tutte e otto Quella roba ci esplode in mano appena spariamo Non è vero C'è stato anch'io Prova del 1600 Beh lasciatenda Vabbè Ma No dai Me ne vado Mi giuro che me ne vado Se veramente mi sono pagato così me ne vado No ragazzi No dai fate i seri veramente Ti prego No cos'hai fatto Ti prego No ti sei buggato dentro la tenda bro Seriously Me ne vado Attenzione Madonna Sei riuscito a sbuggarti? No Quindi potresti aver fatto tutto questo inutilmente perché ora dovrei cambiare No dai Non è veramente ma possibile Ma io posso avere questa croce nei videogiochi Sempre Vivo così io dalla mia vita da sempre La mia vita nei videogiochi è questa Cioè io riesco a entrare in posti che non dovrei entrare e non riesco più a uscire Sempre è stato così Quando a sbaggarmi Non so come Come cazzo ho fatto? Tra l'altro sta pure facendo notte Come cacchio ho fatto entrare qua dentro? Chi è che t'ha fatto? Chi è che t'ha fatto? Chi l'ha fatto sta tenda? Perché c'è una tenda che non puoi aprire qua? Tra l'altro Perché avrebbero dovuto mettere una tenda? Guarda Ma più che altro come hai fatto entrarci se non ci si può entrare Ma infatti cazzo Cioè ma Allora mi sa che devo ricaricare Dino È tranquillo Tranquillo Ma come cacchio ho fatto a entrare qua dentro? Vabbè Usciamo Carichiamo un'altra volta Quanta pazienza Ma pensa te Ma che sfiga oggi con The Forest Regà Assurdo eh Io ho perso tutti i salvataggi Cioè tutti i salvataggi Tutte le mie robe Ho salvato la partita Sono Io Mi sono buttato Ehm Ero sopravvissuto Tu ti sei buttato Sei morto allo stesso modo Quindi va bene strano Da lì Ricaricato salvataggio Tu non hai più ricaricato gli oggetti Non si sa per quale motivo Perché il salvataggio è quello E sono entrato in una tenda Forse non dobbiamo finirlo Il Il gioco Vogliono un'altra live pomeridiana E beh La faremo No inteso Non vogliono che smettiamo di giocare a The Forest il pomeriggio Certo Beh Dipende se lo finiamo Questa roba avevi tra l'altro Perché non sono Eh avevo un botto di roba frate Non ce n'ho la minima idea C'è qualche bug che non capisco Allora Prendi delle robe Tipo Io ho preso snack Cose Ok La fai? Sì 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 Vieni Devo mangiare però aspetta Prendi ancora qualche snack Ok Arrivo Cosa mi sono persa? Non lo so Jesse Io invece ho perso tutto il mio inventario Per esempio Cosa ti sei perso? De Porca di quella miseria Tutto Tredici ore di gioco A prendere legnetti Asce Dinamiti Eh Perso tutto Ma no no Gianluca Grazie del super sticker caro Mamma mia La De Mamma mia Sto arrivando eh bro Aspetterò il mio tempo Dovevate salvare Dovevate salvare tutte e due Ecco adesso lo so Ma non è vero Il salvataggio è mio Lo carico io E ma è tuo del mondo bro È tuo del mondo Il mio inventario invece Secondo me è collegato Il mio salvataggio Perché se no Non si spiega sta roba Quando io hosto una partita Posso scegliere anche altri salvataggi Quindi che salvataggio hai Tu se io hosto un'altra partita Ma che canzone so Tu considera che quando a me Fa gioinare nella tua partita Mi chiede se voglio gioinare Come nuovo O se voglio continuare Con il mio salvataggio Tra virgolette Che mi fa nuovo O continua Capito Allora sei giù Eh Non ne sa Non ne sa Ne sa Camilla camilla Eh sto arriva Eravamo giusto Dall'altra parte Della mappa Però quindi Mamma mia Che facete E quindi ora Regà adesso torno lì E insieme alla D Troviamo un modo per entrare Da dentro Se non si bugga Dentro le tende Non mi ricordo più Come ho fatto Ma l'ho trovato Ok ti vedo Ci sono Ok Vieni qua Arrivo Allora Eccolo qua Alla D Ben equipaggiato Dai premiamo scelta Adesso piego il monitor A metà Lo faccio diventare Un portafoglio Salva qua almeno Eh Salviamo Ok Che cazzo ho visto bro Va bene Ognuno deve salvare Se stesso Poi tu passi tutto Il tuo intervento All'altro E l'altro salva Poi ti dà tutto E esce senza salvare Oh Sei scemo Zio Stavo ascoltando la D Minchia Mi hai fatto cagare a dos Guarda che ci crepo Ma questi sono grossi Sono grossissimi Eh va bene va bene va bene va bene va bene non ti fare niente va niente io ti sto colpendo per noia Sì va bene va bene va bene va bene va bene Eh ricarica la D perché non si fanno niente Non si fanno niente Ti giuro non sa come ucciderlo Ma si fa niente Guarda la life C'è l'altro sono in tondo a me ifc Intorno a te in tondo Ah no ti posso salvare Ti cagano neanche Vieni vieni Arrivo Ho provato a scendere di qua Aspetta, andiamo No Sei morto? Proprio così Ricarico Quindi così Quindi io Ah no, ok, no, ok Stavo dicendo, quindi io devo tornare di nuovo dal villaggio Cosa, invece non è vero Torna al menu principale Va bene Che palle Una cosa incredibile Certo, noi leggiamo tutto, raga Tutto, continua Ok Di tartaruga come paraculo Ma cosa? Per entrare nella voragine provate ad usare il guscio di tartaruga come paraculo Sarebbe fichissimo Dove stiamo andando noi per schippare E dovrebbe essere quella dove sono Dove mi sono buttato io prima Non lo è La D che respawna nel nostro campamento principale Tartar 3 2 No, no, urlo Urlo tantissimo Ok La D Almeno questo, dai Non mi ricordo dove ero sceso prima Quello è il fatto, raga Non me lo ricordo proprio Totally Questo potrebbe risultare un problema Aspetta Ok, fin qua Vieni Qua sotto proprio Subito sotto qui Così? Forca di quella Putta Non so cosa ci stai arrivando a fare In realtà tu Perché non hai più niente Quindi è un po' una pazzia Però vabbè Devo ritrovare ancora qualcosa, bro Che te devo dire? Che fastidio però che ho perso tutto Guarda dovevo Cioè Palle Che te devo dire? Dovevo saperla prima questa roba Dovevo saperla prima Annaggia a me Io non ci ho mai fatto caso È vero ma se facciamo una scala, bro Se craftiamo una scala Una scala? Che stai a dire? Ma che cazzo ne so? Non ci sono scale E noi infatti le costruiamo noi Non ci sono scale da craftare? Ma come no? Questo? Come faccio? Come la costruisco? Allora aspetta Così Infatti io non te la fa fare Primo Non te la fa fare? No Ok adesso sì Ah boh bro Io ci sto provando Cioè Immagino cose Bastoncini no 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 Non si fa Non si fa Vieni qua Vieni qua Arrivo Hanno aggiunto dei progetti segreti E uno di questi è un deltaplano Magari Sai che bello Aspetta Get back Invece Oh Eh andate bene bro Aspetta No non ci credo Che sei arrivato Ok 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 Non è possibile Ma tanto io muoio Devi andare Devi andare La sua parete Mentre scendi Devi attutire Prova Prova Aspetta Ecco Bene Quanto ti manca Vivo Pochissima Aspetta Aspetta No 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 Ce l'hai tu Sì 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 Ok Però qualche secondo che mi sale la vita e ci siamo eh bro E anche a me Mamma mia Non sto scherzando Non sto scherzando si trovano in giro Stupendo Pannocchia Minchia Qua è un bordello eh Aspetta Dobbiamo fare una roba Ve voglio vedere se riesco a farlo Che sennò Vieni un po' più giù Tanto qua Aspetta Perché ho paura che se metto la caviglia male Perché poi è buio Non c'è niente Io vado Che so Ok Vediamo Saltino in avanti Rimani Rimani aderente al muro No Sono vivo Sono giù e sono vivo bro Che cazzo Non va bene Ecco Eh no Che famola qua Aspetta Eh no Perché non so neanche dov'è la caverna È molto sopra di noi Eh ma se scendiamo Non va bene Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni dove sto facendo io Vieni Continua 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 Non scendere Non scendere Non sto scendendo Ok Ok Vai Ok Qua c'è un punto per salire Aspetta dall'altra parte Sempre aderente al muro Ok Mi chiedo se ci riusciamo così Ah se fai un po' di climbing Tipo Skyrim Lo fai Non vedo più niente Non so dove sta andando Non so che fa Sono? Io non so dove Non vedo niente Cioè non so dove Ma scusami Quindi se scendiamo Non va bene uguale? No Ma che cazzo Stiamo facendo una cosa Difficilissima No Sono sceso ancora un po' Niente Aspetta E non vedo più È buio Dobbiamo rifare Dobbiamo rifare Dobbiamo rifare Non ce l'ho Salvatto prima Non ce l'ho Se non li caricavo Mannaggia Guarda Non vedo più niente È buio Per quello Vai vai Sono tornato anch'io Al menu principale Prova a ricaricare Qualche salvataggio Prima Magari ti ridà il loot Eh no Michele Perché purtroppo Io avevo fatto Tutto il loot Nella partita di oggi Cioè tutto il loot Importante L'avevo fatto Nella partita di oggi Ah beh tu Effettivamente Sì Io sì Quindi C'è un gap Dobbiamo muoverci Sono Vai Se dormissimo A sto punto Fratello Così abbiamo tutto il giorno Eh aspettiamo Qualche minuto No magari Aspettiamo qualche minuto Salviamo Dormiamo Oppure dormiamo Salviamo Non ci vuole tanto Dai Sto dietro di te Prova Qui È tutto aderente C'è un pezzo Dovevi fermi Ok Qua Molto easy Dritto Veloce Veloce però Eh bro Ci sto provando Ok Ok nice Eccomi Recupera la vita Già stiamo Sta diventando buio Anche qui Vai un po' più avanti Ok Porca di quella Buttella Sei morto? Eh sì Sono entrato anche Dentro la roccia Attimo C'è il sale Godo Mi stai dando fuoco Ok Grazie D Mamma mia Che angelo custode Ora è abbastanza semplice Che lo può fare Immagino Allora aspetta Basta che recuperi vita Eh la sto recuperando Pian piano Dovevo solo andare sotto qua Ed è fatta Chi è che t'ha fatta No Sono vivo Bellissimo Mi sei girato con la torcia cattivissimo Che t'ha fatta Ma è giusto dove sei tu? Vieni la La DEEE Eccomi Sono arrivato Proprio la DEEE Mamma mia Ma con la tenda si può salvare tutto il mondo Si può impaginare però Mamma mia che fastidio Aspetta che provate a scappare qualcosa Tipo un Rifugio temporaneo Ma non possiamo dormire in due nei rifugi temporanei? Cioè non possiamo salvare in due nei rifugi temporanei Vediamo Ma penso di sì E dai Eh Infatti che non me l'ha fatto manco piazzare Aspetta Eh no questo no perché c'è il coso che serve Ho provato la foto di un albero Che bella Trova piazzare Magari ci sono tende in cui salvare Uh Qua ci sono robe Che cazzo c'hai una roccia in mano? Ma chi te l'ha chiesta? Eh vaffanculo Oh un po' di focherello Si cade niente Oh là c'è rollo Ah qua c'è Medici 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 Preso E lascio uno anche giù perché voglio vedere l'effetto Eh ovviamente niente Ce l'avevo provato anch'io prima a dire Ok Qua c'è l'albero A posto Chi vuoi bugare un po' nella tenna andiamo avanti Ma per me possiamo andare avanti bro Ok Qua ci sono bevande Io ho già preso tutto Andiamo Dai Ce l'abbiamo fatta Sembrava impossibile Tra le tende per salvare Se no non ha senso quello che abbiamo fatto Potremmo morire Il figlio poteva morire E' più eh Ancora lì una corda A di si legge i libri nel frattempo Sempre un buon momento per la cultura E' lanciato Sì Oh c'è uno zio Ah zio Sono anche i bambini Se mi carica gli tiro una lancia nello stomaco Oh Minchia gliel'ho tirata L'ho mancato Ma che minchia vuoi fratello Che minchia qua è di Avevo giusto fame Passaggiero ho trovato Dammi il braccio Dammi il braccio Ok Anche l'altro Grazie Staccato la testa Va bene Ma quella è acqua Solo se sei un uomo Cosa Eh vabbè dai Sei un uomo o di? Certo Sono due uomini Uno dentro l'altro Vai No Nell'acqua o nella corda? Eh? Nell'acqua o nella corda? Nell'acqua Ora qua di E' come? Uh che culo Ti hai beccato l'acqua? Ho beccato l'acqua La D Minchia Non ci credevo mai nella vita Ci ho perso le speranze Nel momento in cui ho preso la rincorsa Eppure Per le views Per le views Ok ci siamo Uh dei componenti elettronici nice Tra l'altro le valigie in questo posto Sono andate ovunque Cioè incredibile Non so se dobbiamo andare sopra o sotto Forse alla fine serve andare sopra Hai sete trova dell'acqua pulita Eh Beh tu scala Sono? Il mio personaggio è stanchissimo eh Qua c'è qualcuno Aspetta Lo picchio Lo sto colpendo Ma hanno ucciso i bimbetti M'hanno ucciso E' morto Yes Grande Non è morto Aspetta E' ancora lì Ti è baggato contro la corda Aspettami, devo prendere i medicinali Ma questo non è un altro Perché era morto Yes Ci sei? Sì, sì, sto dietro di te Cos'è che ho trovato qua? Motosega Una motosega Guarda Oh figo Ascia per arrampicata Bello Veniti Che cattivissima questa Vuoi arrampicare fratello? Non so dove devo andare Però a me non sale Ah ok Non so dove devo andare a destra o a sinistra Sinistra a metà Ancora non vedo Mi devo mollare Sinistra di Sinistra Ok Sinistra Sì Mollati Mollati Poi mi mollo cazzo Ok Ok Buono Non vedo niente Ah lì c'è un tizio Guarda occhio Occhio E muori E muori Cazzo è asciutto l'acqua fan Madonna ragazzi Ma eh eh Quanti cazzo sono? Oh zio Ok E quanti cazzo sono? No raga è impossibile Non mi li vedo Cioè o pinchio o guardo Non vedo So cosa stai succedendo Ok Facciamo così va Boh Sono morti tutti Non si sa Ok Nice Non ho capito niente Prove Let's go Ok Allora C'è un'altra parete da scala D Ok Sto dietro di te Aspetta che devo mangiare qualcosina Ok Devo prendere anche i medicinali Perfetto Altro è fortissimo lui Cioè Con un braccio solo Con un braccio solo Una cosa sola E fu veramente fortissimo Con la E ti stacchi Ok Ok Qua non c'è niente Sa che c'è un'uscita Ci fa vedere esattamente Dovevamo andare Per scendere Senza fare così Capito Sì Stavo guardando intorno Perché Era giusta l'altra strada Alla fine Mannaie Quale l'altra scusami Eh quando eravamo vicino Alla tenda Dove mi sono buggato C'erano due strade C'è il cielo no Yes Ti ricordo Sì filati Ci ha la strada Questa era la cacchio di Oddio però C'è gente aspetta Oh santa Madonna Perché siamo finiti Rientriamo Minchia se c'è gente Rientriamo D Rientriamo D Vai 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 Di corsa anche Ok let's go Aspettiamo che diventi giorno magari Ma in realtà non serve Devevamo andare all'altra parte Però vabbè Mi sei passato dentro No lo so Lo so L'ho fatto anch'io Ma Mi sono fermato un secondo Per vedere dove fossi Mi sei passato dentro Addis Fonda tutto Bravo Allora occhio che cadi Si è ripreso un po' Non vedo niente C'è freddo Ok let's go Ok Sei sceso Sì Ok Altro il mio personaggio Sta crepando di freddo Volaccio Ma perché Cioè non abbiamo Non ci siamo arrivati Per quello non più Ok Facciamo fuoco Ok Sono arrivato No zì scendi Faccio cogerarlo Bravo D Arrivo Sto morendo tantissimo Freddo Ok Freddo Freddo Bravo Grazie Questo è veramente un bel fuoco Noi abbiamo le ossa poi per farci l'armatura A questo point Direi di prenderle Sì 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 Questa la posso combinare No Ora quante Com'è che si fa Devi mettere sei ossa E poi la stoffa Questa non mi basta Non ti bastano le ossa No mi bastano però Ne volevo un po' di più Ah no sì sì Qua c'è un altro Ok Guarda Faccio anche così Guarda Aspetta Aspetta Giusto uno ne ho io Perfetto Come on L'unione fa la foggia Ma tu hai batterie per caso? No Le ho finite completamente Ah già Allora aspetta ma Siamo all'accendino Siamo avanti all'accendino io Eh infatti Dove si vede che è freddo E' quando lo schermo Incomincia a diventare Tutto congelato I lati Esatto Ok scendi la parete Scendi il cane Che lo piscio Ce so eh Ce n'è un'altra di roba Di cosa? Di cosa che puoi prendere Occhia Sì qua che saltano Che schifo che fanno ste robe Vedo niente Da dove siamo arrivati? Eh Ah sì perché qua abbiamo preso gli orologi alla gente Vero? Uh là c'è qualcosa Aspetta Dove c- Cassetta Non mi serve Non so se devi salire Un match up Yes Ma come hai fatto? Non so come però Let's go Quale fisica? Così Perché mi andava? C'è delle monetine Gliele prendo Vamonos Let's go Ma che cazzo Stai recuperando Però ti ho visto infilarti dentro le rocce È fortissimo Aspetta what? Sarà bugato Ok let's go Qua dovremmo tornare Dovevamo prima Vediamo se è giorno È la tenda bugata Ok dall'altra parte Ah perché c'era un pertugio anche di qua quindi? Sì ma ti fa scendere di sotto a sto punto Forse potremmo arrivarci a piedi Che dici? Per me Ma quello è un elicottero bro? Eh? Quello è un elicottero? Sì Oddio Eh dovremmo salvati Tipo come minimo Hai fatto sto salto Fai sto saltino Io crepo bro Vai tranquillo Dì sei forte Yes Oh Solo crederci Pian piano 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 Qua c'è un piano qua sotto Che rogo male Dove sei? Eh so qua Ok vai tranquillo Bene Ok Ok vediamo se riesco a fare questo senza ammazzarmi Perfetto Allora devo recuperare vita Fino a qua Bene Fino a qui tutto bene Ci siamo arrivati Ok Siamo in fondo alla voragine Mamma mia Mamma mia Là c'è un elicottero Là c'è un mostro che corre Io andrei dove Allora Allora Non serve niente a fare fuori sta gente Però possiamo andare nel buco in mezzo proprio Correndo come i pazzi? Sì Quello è il fatto Ok Ci sei? Sei pronto? Sei ready? Non dovrebbe esserci niente nell'elicottero Ma non ci giurerei Ma Sei pronto? Vai Vai Madonna Che cazzo Corri 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 che c'è dietro Bravo bravo bravissimo Ok Non sale ok Perfetto tranquillo Nice Ok ripetiamoci un attimo Ora 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 lì sotto lì Si può fare? Dove? Nell'acqua? Sì Ah ok ok Let's go Vai Dov'è quel buco maledetto? C'è un sacco di gente Attenzione Mamma mia quanti boss Ma l'hanno tolto il buco Quanto è il fatto che non mi sta più prendendo Ma questo m'ha caricato sulle rocce Frate ma tu non stai bene Occhio che c'è un boss in acqua E qua davanti a me è in acqua Sì davvero Ma non c'è più qualcosa di sotto Scusa Oh merda C'è un buco nel mezzo Vieni nel buco nel mezzo E schiaccia il tasto E Perché ti devi entrare Devi entrare L'hai fatto? Sono Si sta baggando Vai Sì 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 Mamma mia regà Let's go Ancora ancora Sarebano le bombole per andare qua sotto In realtà Ce l'ho a metà io Ma io ne ho un po' Dovrei averne un po' di bombole Quindi vai easy Nell'elicottero c'era il macete Vabbè regà Vabbè raga Bella Però Non ce l'avremmo fatta Ad affrontarli tutti Quelli Ma tra l'altro Se finisce Come la fai a cambiare Sott'acqua esattamente Infatti non ne ho altre Sto sperando In acqua quindi Sì Ok Qua sto resistendo Vedo forse un'uscita Sei? Sì 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 Quella è un'uscita Non è vero? Sì 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 Madonna Mamma mia Allora aspetta che se dovesse servire ancora Te la posso mettere nel piattino la bombola Ok E come faccio? Ah no ne ho altre di bombole Usa Ah ne hai Ne hai A posto Ehm Questo è un disegno Non c'è un fuoco più avanti per favore Vedi un subacolo tra l'altro Sono schiatto di freddo C'è un tizio Ci sono più tizio Ok dietro dietro Aspetta 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 Dobbiamo fare un fuoco quando vuoi Tanto io legnetti ne ho una manetta Porca puttana porca Che? Entrato? Non so se ne ha caricato qualcuno Sì 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 Oh Va bene essere nervosi Ma così tanto no Dai Ok Preso qualcosa a due mani Vediamo se spamenarlo Uccino un braccio bro nel frattempo Non si sa mai No ancora no raga La pistola non l'abbiamo fatta Aspetta ti che mi mangia il braccio Se vuoi tu ce la Faccio la gamba? Sì grazie Prego Ce l'hai la barbecue la salsa? Ce l'ho dentro lo zaino Adesso le prendo Aspetta Un botto di carne è andata male Palle Buono dei Twins E' buono? E vedi son contento Anni e anni di esperienza Ok 185 stoffa Cioè non so se chi ha Miliardi Edoardo stoffa 60.000 stoffe c'ho Qua? No niente niente Non andare che poi Vado io C'è poi roba Ah no bastoncini Non andare che poi Vado io Ciao zi Eh? Ok Mi era anche fatto freddo Ok Ma questi qua sono diversi Oh Non so però Io li mi errei Certo certo Andiamo Madonna Dì Però ero cattivissimo Esageriamo adesso Ok 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 Let's go C'è un'altra caverna Ma dove che siamo Se la provo Non si schiaccia M Ah in mezzo Let's go Let's go Let's go Cassetta con su scritto Evasioni di mutanti Vabbè Oh guardo Evasioni di mutande Sai che non mi ricordo dove Sì lo so a Michael Che non abbiamo la tessera Ma non so Non so come trovarla Quindi ci andiamo uguale Sti cazzi Proviamo a buggare Non so Qua bisogna salire D Allora Aspetta che mi tolgo questo Metto questo Ok Oh yes Ma tra l'altro tutte ste candele Chi cacchio le ha messe qua Tu lo sei mai chiesto bro E pensa che ci vuolta dedizione Bossettino No c'è un tizio però Due Non ho detto niente Ok Dai Qualcun altro mi sa Sì Non vedere veramente Per tutto Oh Eh sì Ok Un altro Un altro bengala Oh 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 Ci un tizio Bella Ok Allora di là ho visto delle valigie bro C'erano robe secondo me Anche solo i bengala Fanno benissimo Cazzo Niente Oh aspetta qua si forse Pink Va bene No ma guarda quanta energia ti dà Tra questa roba Mi senti bro Sì Stai parlando La cosina Ok adesso Posso Ok Stai un tizio Stai picchiando Vai Sono in due Arrivo Vedo l'altro Ok Un è morto Ok Ce ne sono altri due Lì che stanno entrando nell'acqua Rivedo Andiamo Andiamo Non dall'acqua però Andiamo dalla roccia Ok Scaliamola Qua che c'è una canola Ok Caso però Ok Cacchio è guns Sto sotto di noi Uno si è buggato fortissimo Nella roccia Sì tutto bene Sto cercando di capire Ok qua c'è una tenda bro Che c'ha pet L'è morto Oh zio Incredibile Però gli ho dato 182 colpi Beh resistenza Poca miseria Sicuro No Ok Vediamo qua cosa c'è Guardiamo Niente Strano Fammi salva anche a me Ok Oh La caverna molto strana Artigianale però Molto bello Oh Ma che cos'è sta roba L'AGE La porta dell'inferno Ma che cazzo Sembra di stare in Assassin's Creed Esatto Tessera richiesta Tu bene Non abbiamo la tessera Questa è l'entrata mistica Per il finale Però non abbiamo la tessera Quindi stavamo pensando Non c'è un modo di andarsela Con la console Non esiste la console vero Rucco dici Sì perché Per solo per la testa Che palle Quello è un'idea di dove si prende Non c'è un modo di aggiungersela Oppure trovate un modo per salvare nel menu Scrivi developer mod E poi in game scrivi il comando gate item 210 Esatto Come è che ci fa? Trovate un modo per salvare nel menu Scrivi develop mode Ok Nel menu quale tra l'altro? Alla gioco comandi Ma speriamo perché sto facendo un video? No secondo me è proprio da andare così Vediamo Consentire barare Che cazzo vuol dire? Consenti cheat Ok andiamo E si apre L'hai trovato? No Com'è che si apre raga? Forse devo andare proprio nel menu principale E vabbè ma come me lo addo? Menu principale è questo Menu principale è che devo uscire Esco Eh sì Vabbè ma se esco come faccio ad adarmi un oggetto? Eh effettivamente non lo so Aspetta Assegnamento tasti Perché? Inventario Allora Inventario Giù sinistra Accovacciati Elenco giocatori Accovacciati Inventario Eeeh Chi è che aveva scritto prima quello? Michael ma in che modo? Cioè nel menu principale dove bisogna andare? Vai nel menu principale? Torna al menu principale Sono tornato al menu Ok Devi scrivere in qualche modo developer mod E come faccio? E prova a scriverlo Proprio così dal nulla Scritto Quindi? Prova a premere meno Meno Sì a caso Non lo so Perché forse ragazzi Cioè prima aveva scritto meno Ma non so se intendesse menu Meno Cioè non ho capito Menu principale Scrivi Ah developer mod on Developer mod on On Anche se non appare nulla Poi nel gioco Click f1 Ok va bene Allora però facciamo per bene Chissà cosa che ho scritto Ho scritto le robe E' peggio Eh Marco Siamo troppo deep nella grotta Per uscire Andare nel container Sì non possiamo farlo raga Non possiamo Non possiamo Troppo troppo dentro Prova a develop Clicchi invio E poi entri in game Ok Hai developer mod on O developer mod basta raga Importante questo Ok aspetta Develo per mod on Ma Develo per mod On On Aspetta che cerco su Ok ha funzionato Ha funzionato Ok E il comando qual era? Era get item 210 mi pare Get Get item 210 Sì Ma in gioco Sì penso una volta Sì perché sennò non ha senso Ok Ok Funzionato quindi Vediamo Per ora Vitamici La D Sto entrando Entrando eh Ok Gata sta roba Se funziona Volo tantissimo Grazie a tutti Sennò non ha senso Ok Ad item 210 No get item Ce l'ho Ce l'hai? Sì Già Quanto volo Grandi ragazzi Grazie Grazie No no ma infatti lo sa perché tanto non abbiamo Ci avremmo messo una vita e mezza Riprendevo la chiave Sì E abbiamo fatto un po' sgamo Sti gazzi Sti ghezzi L'importante è perché Io voglio fare Tanto l'ho già fatto L'avete visto i video Voglio far vedere alla D Questa roba Aspetta che salvo Va vero? Sì Benissimo Adesso di fare porca Di quella Vacca Un massacro Arrivo allora Arrivo Lascia 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 Vai 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 Sono gli ugly Fuck Signori It's time Siamo Fammi casare D Ecco qua D Poi c'è il gabibbo Caricamento? Sì Madonna Ma in che posto siamo? La D Mi sono girato in line C'avevi una faccia tipo Ma Chiudi la porta va Chiudi quella porta va Chiudi quella porta Allora Tu ti sei che io ho questa domanda Non te la potevo fare Prima Tu ti sei chiesto come mai Chi è che aveva messo le due candeline Ok adesso chiediti Chi è che ha costruito sta roba qua sotto E come? Eh certo Un trapano C'è qua tra l'altro Eh adesso non mi chiedere Ma No Ok 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 In fondo non c'è niente Vai su Vai su Tra l'altro la vernice te la mette subito Mi sa Eh ok l'ho visto Vado a Vai pieno di ossa E' pieno di ossa Oh di qua non c'è niente bro Cos'è che c'è? Niente C'è ossa Rob Vabbè 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 Anzi Curo Anch'io Anche tu Prendi qua i medicinali Le ossa le facciamo Vabbiamo Nice Let's go Si è fullato Si si Sono perplesso bro Sono veramente perplesso Ok poi ci sono delle scale Si scende di Una chiave ingle Ma hai fatto benissimo sto posto Tra l'altro Si è pazzesco Che si apre la porta pure così Un po' di croce Un po' di vernice E' la foto di un bambino questa Di una bambina anzi School photo Ok non so che parte Qua Tu mi vuoi dire che quelli che ci lavorano qua dentro Fanno sta strada tutte le volte Perché non dovresti fare Una strada più normale Per esempio È per allenarsi Capito Ah ok Erano Mi sa i parenti di Gimli Vediamo Un tavolo qua Ma deve essere successo Madonna ma è gigante Mickey tells Mickey tells Che cazzo sei Bro mi porto via il cazzo di microonde Ma dove sei Oh Staccalo dal muro Ti ho mangiato? Non lo so Ignoro dove sei Non lo so dove sei tu C'è una corda Devi salire Ah No vabbè È bellissimo Non pensavo mai più Un risvolto del genere Posso mettere le monetine E mi dà la No vabbè che figo Guarda che roba Va che storia Va che storia Che noi non ce l'avevamo Il microonde prima Ma che è successo A sta gente Quindi Eh Ci stavano un po' di esperimenti Caffetiria Stava un gas È successo un po' di casino Come si fa la prima porta Non mi ricordo Non siamo Che tiriamo giù gli alberi Con staccetta Ma non possiamo spaccare i vetri Va bene Mi siedo io Adesso ci penso No scherzo Zaini Eh dove si prosegue Ah da questa cosa Ok da questo tubo Vai Palese proprio No devo salire ancora su Quanto merita tutta sta roba Cioè non è troppo figo Bellissimo Bellissimo Cioè è un risvolto incredibile Uno dei questi più grandi di The Forest Cioè È troppo figo Volei un sacco poter usare il trapano onestamente Qua c'è una porta Qua deve essere L'infermieria Però io sto guardando Perché sono curiosissimo Cioè C'è dei giocattoli Quindi qua tenevano dei bambini Sì Sono Ecco Aspetta ci sono i cosini qua Che cazzo fai? Non ce la spiegate voi la storia Raga Che Io non ne faccio Aspetta che qua C'è un'altra porta Ah di qua si passa Ok No ma è pieno di cose per i bambini bro Eh vabbè di anche senza spaccare tutto Lo sai che io sono così bro Gomitate alle cose Bro c'è un elemento Ok ok Non ho più dinamiti Però c'è il molotov Ci ha visti? Potrebbe darsi insomma Dimmi se si carica Che io sto facendo le molotov Che sto facendo le molotov Non Per il momento non mi sembra Se poi ci vediamo spazzati via Perché ci ha caricato Esatto Allora aspetta che Prendo la torcia Qua ce n'è uno morto di quelli Va bene Aspetta che gli lancio questo Attenzione Pocca miseria Nice Bene Durata tanto Aia Aiaissima anzi Ok l'ho peccato di nuovo No perché ti devi Te la devi prendere con me Fratelli Guardi a te Nice Morto Morto Nice Buonissimo Sbagliatelo Adesso appena finisce di andare al Ok Yes L'ha già messa No A sinistra La metti Ah Ma erano per loro i giochi Ah guarda questo Che schifo Questo era abbastanza grosso Questo sono io quando finisco di mangiare il sushi Più o meno Siamo Beh è un po' E' un po' eccessivo Però vabbè Tutto comaci Vediamo un po' Dalli sei pieno Proprietà di Megan Proprietà di Megan Megan è la bambina Però non so che bambina C'è una bambina qua si chiama Megan C'è l'esperimento Ti disegni di Megan Oh sento la musica Dico la musica Questa è la quante che stanno andando a questa musica Abbonamento a Spotify Aspetta Grazie per aver scelto Spotify Adesso parte così random Oh guarda c'è distrutto Che bello Possiamo fare anche un caffè Hdmi Oh io mi magno tutto Oh se la passavano bene qua i ragazzi comunque Oh attenzione c'è uno zio Cazzo Oddio mi sono fatto un flashione Che è successo? Secondo me questi non sono indigeni Sono i tizi che lavoravano qua dentro Che si sono trasformati in qualche modo Bravo te Bravo Suga Mamma mia Mi sono fatto sto flashione adesso Adesso mi ripicchiavi quello Bravo Suga E sti bambini però che cazzo sono? Che cazzo ne so Vado a facciare un esperimento Oh Mi acchiappa la talpa Ci chiamo acchiappa la D Dove vai? Non l'ho preso? Ok Perché scusami se non c'è nessuno Ho qua medicina Ok se non sei full curati Ok Madonna ok Deve essere stata qualche cosa Qualche infezione Qualche roba strana Ma dice qualcosa Che cacchio è sta roba? Aspetta non ho aperto Non volevo aprirla così Mi ricordo cos'è Timmy Oh zio Ma che cazzo ci fai là dentro Timmy cos'è successo? È la gabbia di Matilde si mitica No Timmy Che t'hanno fatto? Che hanno fatto? Chi è? Che t'ha fatto? Non gli svitare la testa Povero Timmy Povero No ogni volta mi strazzi al cuore In realtà non me lo ricordavo Poveri Ma poi tra tutti Perché è lui dentro sta roba? Perché sono rifiuti Chi è che l'ha messo qua? Chi è che l'ha messo? Chi è che l'ha messo? Chi è che l'ha messo la Bastardacce E chi da muro? Quello lì Timmy ti faccio la respirazione No il giochino di Timmy Che l'abbiamo riparato Va nel Valhalla adesso così Speriamo Sfato Maior Bravo No Aspetta che forse c'è cosa per curarlo Attenzione Attenzione Guarda io non mi ricordo niente Attenzione Oh Tutte le voci Attenzione Cambia la musica qua Oh io non mi ricordo Bro sento qualcuno che si lagna Io Sto facendo roba Tu non stai vedendo il filmato no? Sì sì no io vedo te parlo però Ok Accendi accendi Tommaso You sample required Sabe qualcuno dall'altra parte Vai di sacrifica Dall'altra parte dove fratella? Là dentro Che cazzo sta succedendo Sacrifico io per Timmy No vado io vado io No laddi Laddi no Non ho paura di niente Non posso entrare Non lo posso fare Vediamo se lo posso No non lo posso fare Aspetta Ragazzi Trova un nuovo sacrificio Dove trovare qualcuno da sacrificare capito? E io sentivo qualcuno prima Dimmi dimmi Eeeh Troviamo qualcuno Ehi Tutto bene? Ehi Si annoiava Eh Allora Che qua c'è gente Eh attenzione E portiamolo in qualche modo Bellissimo No Non è morto Non è morto Non è morto Non è morto Ok Mo si Si è morto tra sicuro Ha preso un teschio nel coccige Ma è rimasto anche parecchio male tra Ma Di Qualche pila Ce la daranno prima No Oh Quanti medicinali Che non si possono prendere Oh invece si Ok Ma possiamo dormire Su sta barella Tra l'altro O c'è una stanza grossa Ho ancora da accendire in mano Non ho capito che non mi serve più Una stanza un po' grossa Ma che cazzo è bro? Chi è che t'ha fatto? Ma come fanno a esserci i tuoni sotto? Me lo spieghi? I tuoni? Eh perché Sento il rumore dei tuoni Ho visto un lampo sotto Bro ma chi è che l'ha fatta a sta stanza? Scusami Chi è che l'ha fatta? C'è qualcosa lì fermo Ma cos'è? È una bambina? Megan? Torella tu non stai bene Che cazzo fai qua? Cosa stai facendo? Ci sei andato a me chiede Io c'ho il filmato E tu sei lì davanti Ma che cazzo? Ti ho lasciato Ti prego Se guardi la live È un po' La situa non è Proprio delicatissima Cioè È delicatissima Però vabbè Avete capito? Giorno Non stai bene Ci si lava le mani Quando si fanno Giorno Dica Ha mangiato Ha mangiato un po' troppa cioccolata Mi sa No eh Vedi che Adesso dovevi morire sister No Tutto bene È un bug È un bug È il picchio picchierello Porca vacca È allora Mi sembra un po' eccessivo All you can eat Mi sembra decisamente eccessivo Eh vabbè Ciao la G Arrivederci Ma che c'è questa roba Scusami Ma 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 Chi è che t'ha fatta Ma cosa Mi ha spinto No L'ho mancata Amica Abbiamo Già abbiamo Poca roba Vabbè No Lo so Ho preso Aia Bravo bro Gli lancio pure No no Aspetta che finisce il fuoco Che se no non ha senso Non ottimizzi il fire damage Bravo Ecco Ho preso a sei volte Bastardo Eh ma No Eh vabbè Ha preso fuoco però In compenso Perché Girando Sei morto Bene Minchia se sono morto Però mi ha tirato delle Fucilate Bastante Interessante No vabbè Ok L'ho presa Bravo Corri Corri la G Fuggi la G Aspetta che devo fare Non stai per niente bene Filati Appena E passa Che cazzo ho visto Ma l'hai visto Un pediatra C'è andato C'è andato sopra No non c'è andato Peccato Gli ho dato una botta Abbastanza power Però Ho presa Ho presa Ho presa secco Con questa Ci servirebbe la dinamite Ragazzi Porca vacca Ci servirebbe la dinamite Ragazzi Cosa fa Picchia Picchia Ne Picchia perché non sappiamo Quanta roba hai ancora Io ho finto l'alcol Io ho ancora un bel po' di molli Eh basta che la colp Dove sei andato bro La te è a posto Tutto bene Basta che la colpisci Quando fa questo via Basta che la colpisci Perché se no l'abbiamo Allora aspetta Madonna che Si va bene Ma un tiro E allora Ma vaffanculo Mi sono dimenticato di accendere Stava molto top di merda Ma non ti ho La tira Colpirei Arrivo Madonna Eh che Eh vabbè Eh mica Che botta La dimmi Si è morto Eh si Anch'io Eh anche te Sei morto Si Ma ha fatto Riparti qua indietro Hai fatto premi Per riavviare Si Guarda lo fa Andiamo un po' Cioè la roba La tiene grazie a Dio Perché se no Mamma mia Eh vabbè Ma se no sta parte È impossibile Da fare Come fai Aspetta bro Ah ma c'avevo anche l'arco Chi è che t'ha fatto Accendiamo sta molly Stupita Madonna Tieni zia Bravo La che Stupita Madone Va bene Dai Non è possibile Non è possibile Non è possibile Dovete arrivare Non so se c'è una parola L'ho fatta Madonna Tempo in tempo Sono rinato E sono rimorto Incredibile È perché ha fatto Aspetta No Non si può fare Ma li ha sversati Riavviare Aspetta Aspetta Non ce la faccio Ce la faccio Ce la faccio Ci la faccio Ok Non ho più frecce Merda Hai maolotov ancora Aspetta Sto scappando Dì che mi devo curare Fai colai Porca puttana Che male Ok Dov'è lei È lì Aspetta Ok Oh è caduta a terra Va bene Ragazzi allora Sto presa Mi dovresti restare Adesso io Aspetta Dai 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 Ok Che lag quando mi resti Ok Dove sei? Sono Sono qua Sono morto di nuovo Non potevo fare niente Non potevo fare niente Aspetta Ho guardato doveri per dire Vediamo se riesco a furarmi Non sono riuscito Ho ancora una molly Guarda che ti resto Non è vero Non è vero Dai Come hai fatto a restarti da solo Scusate Abbiamo fatto schiacciato E Ah no Ok ok C'è impossibile Corella pigati che non stai bene Il circuito stampato per fare l'esplosivo Vediamo I soldi I soldi dove stanno qua C'è un sacco Madonna che botta che mancato No Non c'è qualcosa per fightarla che non sia un molotov C'è delle bottiglie Io penso di sì Dai tu e faccio le sposi Ho fatto lo sgambetto mangiato in aria Che cazzo sta facendo Devi sapere delle preferite Anzi che io la sto ancora combattendo Arriva Aiuto Piccchia piccchia No ma io non ho vita La mia ultima vita bro La sprecherò così A posto Mi ha staccato una gamba forse Attenzione Dai l'ha staccato anche a me Ma sì Tanto non è successo niente Però è giusto che io moro Credo che quella da me L'abbia mangiato qualcosa di strano Anche a me Eh sì Mi curo Non ho più cose per fare le molotov Ti posso lanciare una gamba se vuoi Mi puoi interessare? Sì Arrivo Che cazzo è la zia? Non la vedo più Ah là in fondo Ok Dattene lì Ok Bro secondo me dobbiamo trovare qualcosa nella stanza Per fightarla Perché non è possibile Tipo ste bombole Magari in qualche modo servono No 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 La dobbiamo menare così Oh cribio Ah vedi che servono bro Cosa? Minchia fanno un botto clamoroso Ste bombole Quali bombole? Queste qua dove sono io? Guarda Riesco ad aggrare verso di me Eccola Ok Attenzione Boom Grande Ok Ancora ancora Doppio Eh non l'ha presa questa Questo è schivato ragazzi Come hai fatto da schiacciarle? Cioè a triggerarle? Maddonna che bocche V-press C'ha scassata tutte e due Di Ma come possiamo farcela? È impossibile Papi con 3-C4 lo uccidi Bro noi stiamo lanciando le bottiglie di vodka Senza neanche Neanche accese Fammi bere Non lo so a caso Datemi la forza T'altro non ho più cure T'altro io non ti sento Perché c'è un bordello Nelle mie orecchie devastante Finito le medicine Anche io non ho cure Aspetta Dove devo fare qua? Scusa Uh Laci Guarda cosa ho trovato Che cazzo La volto? No La bombolata Vai 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 Usala Oddio Bravo Mi riporta Non la sprecare Non la sprecare Maron che botte Vieni qua Vieni qua Vieni qua Aspetta 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 Questa qua con la trigger Eh vabbè Ce l'hai con me Fia di questo Eh vabbè Lei mi deve ammazzare Tutte le volte Aspettando che arrivi qua Come fai a trigger Le popole Le picchi Devi picchiarle bro Vieni a bozzi Vuole malabba Rivecchia Yes Come on Bene Porca Cazzo stai Io sono letteralmente One shot Anche tu mi sa bro Oh l'ho scassata Bravo G È sparita musica Infatti È andata Vedo le fog È andata Fai arrivare Meno male Perché Non avevamo più niente Oh Bravo Vai fai lì Ecco qua E lei è il sacrificio allora A post Andiamo 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 per il sacrifice Andiamo per il sacrifice Che culo raga Non so come Non so come io Ci sia riuscito Nesta Eh vabbè Tasti permanente Chi è che t'ha fatto Non ho cure Non ho niente Cioè veramente Non Neanch'io Neanch'io Sono letteralmente One shot Dov'è che dobbiamo andare Allora qua a destra Qua Eccoci No Non mi ricordo più Ah sì tipo qua Eccola Trovato L'agere Arrivo Corro Inzicchiala Inzicchiala Inzicchiare Tra l'altro L'hai messa dentro E ce n'hai un'altra in mano Live sample required Ce ne vuole Deve essere viva Come facciamo scusami Sara Però adesso abbiamo Una tessera in più La tessera è Sara Live Required Cioè deve essere vivo Live sample required E dove cazzo vado Questa tessera Qua Ha aperto la tessera Sara Fammi vedere Sì Grazie che mi hai fatto luce Perché sono Vedi Di trovare Qualcuno di vivo De Eh Parcia 26% Ma sì Però guarda dove mi sono Incastrato io Eh ma devi andare là Ah ok Ok let's go 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 Come on come on Vai vai Proverò a mettere ansia Uh No mica c'è un altro Di quei comuni Che riscala Dai Are you serious? Fammi distruggere Ste robe Un attimo Che magari si trovano Niente Si possono rompere Ste cose Dovevo rifare Orca vacca Pensavo fossero finite Le caverne Che Che da F*** Ok Is Bam Bardon E giù E giù Yes Eh addirittura Adesso 8 Mi sembra un po' eccessivo Vabbè dai Let's go Andiamo Andiamo C'è il coso che fa luce Anche sott'acqua Si Mi sembra un po' eccessivo Un'eccessività Capito Tra l'altro Il mio personaggio C'è anche fame Come se Anche io No io fame no Però sto morendo Sei No ci sono Se dietro di te bro Ok Ok C'è una porta Di quelle porte Ok Oh Che salto Accendino bro Si 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 Vede Ah C'è Ah Non capisco Simpatici questi So chi siano La torcia mi si sta scaricando Dico solo questo Eh Come on No Cazzo Dove è andato Qua Attenzione C'è qualcosa qua Possibile Ok Chi deve andare Ma aspetta Ma la mappa Qui siamo Ora lì c'è la luce Ma non è Non si capelli E sali Mannaggia A te Dove dobbiamo andare Raga Trova una via La D Fatemi cambiare Un attimo la bombola Io non vedo niente Ah c'è un coso illuminato Si dove l'ha illuminato Che è una corda illuminata Ma è quella per salire Dove siamo accesi Eh Sì Però illumina proprio lì Quanto c'ho di batteria Io ho 27% Dai C'è ancora le bombe Guarda Mi sono buttato Beh Non si capisce niente Non vedo nulla Via Non hai per caso Un batterio No Sero Ah ma qua c'era qualcosa Aspetta Sta Cioè così Buone se robe si spaccano No Va bene E ci sono dei dizieri di caffè Scusa o no 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 Come di aver visto qualcuno Era la mia ombra Mi sono cagato le mutande Ok let's go Pertugio La corda era solo per i pirla Che cadono Ok Ok Ce ne sacci Con noi quindi Ok siamo tornati No Dai siamo scesi Normale Certo Uè podi Di cosa Cos'è Ah Gradisci Sembrano fresche Vabbè Ciao Salve House party Hai cagato Sembra un po' eccessivo ragazzi Qua Che t'ha fatto La porta di merda Ok No Perché ti devi sedere qua Secondo te Siede nulla Aspetta che prendo un accendino Spaccato Uh Bengala Ancora non ho capito come dare il pendente Ogni tanto Ogni tanto no Ho perso io bro Dove sei? Ah ok T'ho visto Dove che siamo in tutto ciò Ok Sei D? Sì sì T'avevo perso Eri rientrato in una grotta Tipo Ti aspetto Vai arrivo Vai arrivo C'è una scensore Dei Ti aspetto Saliamo Dove sei? Oh Eccomi Siamo di Tu sei passato dentro la porta Ma tra l'altro si apre Cioè si Nel senso ok Andiamo La tessera Che tanto non l'hai messa Ma neanche lontanamente vicino al coso Nella mia visuale era completamente un'altra roba Tu sei ancora in bombole D Grazie D Io toglierei Mi ti ha una botta T'ha posto Smetti che sto morendo Porca Ma perché ti faccio male? Minchia Prova Aia porca vacca Non pensavo Hey what's up? Ma dove cacchio siamo? In una base in cima alle montagne La D Cazzo è dead stranding Si sta trasformando sta roba Oh what? Bellissimo Ma scusami Perché non l'abbiamo mai visto tra l'altro? Eh perché era lontano Nascosto dici tu C'è un po' di roba qua Che bella sta roba Ma Che cazzo è? Quello è il mio power bank De Si mi ha avuto qualcosa qua Un ascensore La donna Il mio power bank Eh la sedia Vaffanculo la sedia Cazzo ma guarda Emergency shutdown Are you sure? Aspetta cosa puoi fare? Togliti porca Troy Activate Allora O faccio cadere un altro aereo Fai cadere un altro aereo Sì perché praticamente cosa succede? Qua è una cabina Dove se passano gli aerei Tu puoi decidere di farli cadere Ah veramente? E ti fa vedere dentro Che ci sono dei bambini Che tu puoi No O lo schiacci Oppure schiacci qua Shutdown Che facciamo? Shutdown? Tu cosa hai fatto? Io ho fatto l'altro Io ho fatto l'aereo Poi ti faccio vedere Che cosa succede Quando fai l'aereo Ok Facciamo shutdown Spegniamo sta merda Sì Spegniamo? Spegni Are you sure? Spegni Sì sono sure Dai Anche tu devi farlo Devo farlo anch'io? Sì Are you sure? Yes Fatto? Yes Poi Emergency shutdown Un monitor sul cestino Con una tastiera Che va sul cestino Ah ho capito Adesso Yes Facendo così Non rianimiamo Tommy Non c'è modo Di portarlo in vita Invece se avessimo fatto Cadere l'aereo Sì magari Sì Però vabbè Qui ti faccio vedere Che cosa succede Sei spendo Questo faccia cadere Degli aerei capito Chi è? Tipo un impulso elettromagnetico gigante Cos'è? Andiamo Sara Terapeutics Eh Per i modi per fare Terapia Ok Siamo C'hai capito Com'era il discorso Dell'aereo Bellissimo Ti detectava Chi c'era Di bambini Dentro l'aereo E ti faccia cadere l'aereo Così sapevi già C'è Pazzesca sta roba Ma poi perché? Cioè cosa fanno Per esperimenti Però non ho capito In che senso Cioè non solo stessero cercando Però così Ti mi muore Sì esatto Vabbè tanto C'era già morto Diciamo Sì Non so cosa succede Adesso non ho mai fatto A stravoli Qua in avanti Sono Mi sei frizzato Ok Mi aro Mi apo Vedo niente Non vedevo La Bellissimo Vederti girare così Sembra veramente Di essere lì insieme Cioè è bellissimo Sembra di stare Sai ti ricordi L'esplorazione Che mi hai fatto con Laura Quella lì Uguale Ah si Vado? Eh vai Cioè Ti vuoi buttare Quanto lunga sta Io comunque non ci sono Veramente mai stato Ah Devi anche immergere Attenzione Da che parte Sinistra a destra Sono due parti Sinistra Andiamo a sinistra Sinistra Non ho assolutamente Non ho idea Sei bagnato o hai freddo Eh ci manca solo Strano Facciamo un fuocarello Aspetta Dipende Ci tentare subito o no? Porca trottola Sono due Eh vabbè ma ragazzi Sento Sento dei passi io tipo Sì facciamo il fuoco Aspetta Io faccio io Ok Aspetta un attimo Vediamo che c'è di un po' Ci sono troppe vie Cacchio Che cacchio è? Beh raga ma che gioco è comunque Dai Vengala Ah no dinamite Questa è dinamite Dinamite Prendi tutto Ah qua devi farla saltare Ok Eh si Dai Minchia Se sta clicchiamo Sente Madonna Mi sono arrivate tutte le rocce in bocca What? Mi esce? Siamo in mezzo alla neve Attenzione Con musichetta amnessa E l'aereo che continua La sua tratta Indisturbato Lo vedi? Sì Ma lo vedi che da cinematica Lo vedi che poi muove Lo vedo da cinematica Da cinematica E dimmi Che è morto Eh Boraccio dimmi State lì Doveva andare così No perché gli dai fuoco zi? Non so Ma perché? Ma è tuo figlio Ma non devi dare fuoco Alla foto di tuo figlio Che cazzo fai? Questo è il finale Alternativo Bene Però abbiamo fatto la scelta migliore La Dè È finita qua Mamma mia La Dè Che bel gioco La Dè Che cazzo fai La Dè Che bel gioco Che bel gioco Ragazzi finisce così Il The Forest con la Dè Che bello Sono veramente soddisfatto Grazie a D Grazie a D Prego a Dè Tutto questo C'è ancora l'accendino in mano Gli alberi addosso Un disatto Ed è finito giusto in tempo Tra l'altro Incredibile Bellissimo Bellissimo Stupendo Adesso ti faccio vedere L'altro finale Vabbè ma Sì vabbè Te lo faccio vedere Vai E come te lo faccio vedere Boh Eh dovremmo tipo Ricaricare Penso Benzina È un bellissimo Io preferisco l'altro L'altro immagino che Duri ancora di più Ma l'altro è cinematico Ah è tutto cinematica A me piace di più l'altro Cioè non mi piace come ending Cioè in realtà mi piace anche come ending L'altro è un po' più bello A me piace di più l'altro Ma come è la parte dell'aereo Ah ma dai Ma come Cosa È la parte dell'aereo Mannaria Vabbè L'uscita di là Che cazzo Vabbè i piloti Come stanno Vabbè Uno sta riposando Un po' tanto RATIU L'altro sono uscito dall'aereo Dall'altra parte Come cazzo Va bene Dove cazzo sei Non riesco neanche a prenderti Eccoti No non riesco a essere Ok Però sono finito in una parte Adesso vediamo l'altro finale insieme Dai Vai Eh non discorrezzarti Ah si dai Sono morto Sei morto Vabbè Questa è la tua parte dell'aereo La dee Micchia Oh la pistola flare Sì Aiuto Peccato Torinato nell'aereo Bene Questo è Ah no Nell'altro 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 Ciao Micchia Sai quanto è lontano Ma sai che non eravamo lontani Quando abbiamo fatto quel giro strano Pucco non si vede la base aerea Strano eh Cioè la base dove si fa saltare tutto Non si vede Ma non ci credo Guarda Ti prego Guarda cosa è successo Vabbè Pazzesco Hai preso il coniglio Ha preso fuoco Bellissimo Oh my god 360 Oh my god Eh vabbè Io non posso mai più tornare qua dentro Scusatemi Basta 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 Guardate il finale L'abbiamo tutti e due insieme ragazzi E tutti quanti Adesso io ve lo faccio vedere a mo' di reaction E l'abbiamo insieme All'inizio Innanzitutto te lo passo Su Teenage Peak Bellissimo Che finale Ma non me l'aspettavo mai più una roba del genere onestamente Adesso è il finale Eccolo qua Il finale di foresta seconda parte L'avevo fatto con Tom Pietro Ciccio 14 C'è il 13 Buon Sì Ecco qua Apri questo Ok Fatto Vai A Sai che parte la publicity Ok Dimmi tutto Vai a 8 E 30 Preciso Sono 8 e 30 Preciso Ci sono io che tipo Preciso Tirando le Prattando il labbro Ok Esatto 8 e 30 Va bene Si sentirà l'audio tuo Anche fa niente 3 Sto zitto 2 No no parla se vuoi Però Io parlerò nel video Quindi Ok Vai Non parlo qua Cioè Ma si vabbè 3 2 1 Via E tu Che io butto giù aereo Dici Che tu ti riguarda l'aereo Un altro si incazza perché gli rubi il figlio E continua all'infinito sta cosa Ma spero di no dai Che cazzo Che diamine sa succedere E può essere Ma non è caduto niente Non è caduto niente Non è caduto niente Oh mio dio What the Bo Guarda come si invecchia i tre anni Guarda Guarda Il gioco da capo Sono tante persone A barba I bafi No Esatto Qual è il tuo livello di inglese Un anno più tardi Cosa? Mio figlio What? C'è il nostro figlio Che ha dei tic strani Ah ci hanno salvati La gava Ci hanno salvati Lo lascia Lo lascia Mio figlio ha veramente dei tic orribili Ho fatto pure il libro Abbiamo fatto un libro Link in descrizione ragazzi Eric Leblanc Ah ci ha portato un tronco Vuoi fare la dimostrazione Di come si taglia la legna Nella serie Tu che sei indigeno Facci vedere come si taglia No invece Sta tagliando Io avrei tagliato il libro Adesso il flashback del Vietnam Sicuro Esatto Ecco adesso l'ammalza Il sintomicida È il bambino Nooo si trasforma come la tipo Nooo Succede quel No Mio gli spunta Il boss Al figlio Oddio Io l'avrei fatto controllare Però sembra un 3310 quando ti chiamano La vibrazione Esatto Uno Braccio dalla bocca in tre Due Uno No No Io mi ricordavo che c'era un'altra roba Ah What Nessun jumpscare Nessun jumpscare Quindi cosa è successo Aspetta 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 però Cioè tu sei vivo o do figlio ha problemi Ciccio No qualcuno ce l'ho De spiegare Ma raga dovete commentarmi in mille Che cos'è Ah no l'ha finito l'ha finito l'ha finito Mi ricordavo c'era un altro pezzo Intanto mi tiro sempre Guarda la doccia Guarda basta lo sguardo No no tranquillo Ah ci vediamo come siamo noi Cioè in realtà io ero tipo un messicano Ma che c***o Ah questo è il figlio Ah sto cercando di ritrovare l'isola Sto male Come l'host Ancora di spasso Ma questo è il bambino Mi sa di sì No What? Non è proprio un po' di posto sto ragazzo E' spider-man Venom Penso si butta A fare la spider-man Venom Cosa è scritto in cinema? Ah finito così? That's the game Non ho capito Ok Vabbè Vabbè è stato Più che altro non si capisce Cioè nel senso cosa vuol dire Che gli vengono quelle robe lì sul braccio E poi? No vuol dire che Sostanzialmente Lui è un istante Adesso non lo so In realtà Perché lui adesso stava cercando l'isola Secondo me Il discorso è che Adesso lui si trasforma E quindi crea panico nel mondo normale Capisci? Cioè lui adesso va a far casino nel mondo Nel mondo Appunto Prima invece Cioè quindi questo è il finale cattivo Però è molto più cinematografico Cinematografico Sì 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 Vero Però a livello di etica A livello di etica È meglio quello che Certo assolutamente Parla un attimo di Latti Si sentiva scherminchi Allora andiamo un attimo il trailer Di l'altro The Forest Vai Sons of The Forest Andiamo Sons of The Forest Gameplay trailer Ok Ok Official gameplay trailer A parte sempre la pubblicità Ma ce l'hai? Sì sì Quando va via la pubblicità Ok Ok Metto 0 3 2 Aspetta 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 Vai Eh no Fai 3 2 3 2 1 Vai And the night Strano Strano C'è uno schianto aereo Elicottere Bello Sai che io non l'ho visto Sai che io non l'ho visto Non l'hai ancora visto Eh beh la grafica Sembra decisamente migliorata Sì ma Ma c'è per la stessa Non che facesse schifo Però Che cazzo Tutto bene Tranquillo Abbiamo le armi Se vedi i mostri non si sono ancora del tutto mostrizzati Sono messi i mani messi i mostri Vero Potrebbe essere l'elicottero che c'era dentro la grotta magari C'è dentro la voragine Ah the mask Sfumeggiante Eh vabbè Eh vabbè Bellissimo Bellissimo Noo Ma che si che si vanno a dire altre cose Eh vabbè Sfumeggiante Questo è un po' di Vabbè Allora Vabbè Cosa volevo dire Quindi 2021 Abbiamo rigiocato tutto The Forest Nel 2020, bella lì Così nel 2021 che siamo adesso Possiamo fare il sequel senza dover Rispolverare Perché abbiamo appena rispolverato Vediamo un po' se c'è la data di uscita Tantissima roba raga Ma poi con che grafica Molto bello, molto bello Adesso che The Forest ha venduto è andato bene L'hanno ottimizzato Sons of The Forest Nel 2021 And Night Games Vediamo se la scrivono qualcosa Pensai che The Forest era uno di quei giochi Che io tenevo sotto controllo Quando ho iniziato a fare video su Youtube Che ancora non era uscito Pannocchia scrive No, è il sequel nel finale di prima C'era scritto nella mappa sito 2 Quella che guardava Timmy Non ho capito niente Pannocchia ha scritto Che questo che è Sons of The Forest Sarà il sequel di The Forest Perché nel finale di prima C'era scritto nella mappa Quella lì che c'era appesa sul muro C'era scritto sito 2 Non sai di per certo L'hai detto tanto per così Perché secondo me Il prequel L'avevo proprio Letto Ma con che Io sono scioccato dalla grafica comunque Sons of The Forest Prequel Ah non è un prequel Vediamo Ah non è un sequel Ok Ti avevo detto prequel È un sequel C'hai ragione Scusami caro Non l'ho capito Bravo hai ragione tu Io ero convintissimo fosse un prequel Meno male Preferisco i sequel A me non mi è mai piaciuta Sto roba dei prequel Cioè che ti racconta Cosa è successo prima Non mi è mai piaciuta Non so perché È vero è strano Anche perché tanto sai già come Cioè vabbè Sei già l'evoluzione Beh è vero che non sai quello di prima Infatti io preferisco i sequel Comunque Quindi dici che è Timmy Quello che stiamo comandando Non lo so The Forest Ma Sons of The Forest Non si sa 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 ragazzi Non si sa Non si sa Secondo me lo slittano un po' Non c'è nessuna data di uscita quindi? No 2021 2021 Ah 2021 Questo qua ti ricordi quando era uscito più o meno Nel 2000 2000 eh Vediamo un po' Quando è uscito The Forest Normal The Forest Ho scritto veramente tra l'altro The Forest Ah ma c'è anche per console Non sapevo Pensa il primo gioco l'hanno fatto con un budget di 125.000 E ha venduto 5 milioni di copie A te Ciao Quando è uscito The Forest The Forest Video Video Wikipedia È uscito il 30 aprile 2018 30 aprile 2018 È il 2021 Aprile l'abbiamo già passato Non ci sono Perché poi non ci sono neanche fughi di notizie Quindi non è che dici Vabbè quello ha detto che è uscito Perché lo fanno in pochi Cioè non so in quanti Non so se hanno ampliato il team Sì sicuramente Però Non è che dicono Quando Non dicono Non hanno detto niente Sono veramente Super enigmatici Non hanno detto niente 2021 Basta Quello che avete visto è quello che si sa Non si sa niente Sì bro Considera che comunque The Forest normale Cioè il primo Quello che abbiamo giocato noi adesso Sto leggendo È andato in alfa Il 30 maggio 2014 È poi uscito il 30 aprile 2018 Cioè quindi 4 anni In realtà Quindi secondo me Ci faranno attendere Oltre anche il 2021 Secondo me Però L'importante è che esca un gioco fatto bene Io sono di questa idea Che va bene Attendere Attendo quanto vuoi Ma l'importante è che esca un gioco fatto bene Perché sennò Ma è da quello che abbiamo visto Le premesse c'è su tutte Vabbè ragazzi Dai Io direi che possiamo concludere qui Grazie alla G Per questo gameplay Dieci ore Grazie a te Mi sono scassato veramente un botto Veramente bello come gioco Molto carino Ci giocheremo a Sound of the Forest Ci giocheremo a Notas 3 E dalla prossima live pomeridiana Faremo Call of Wild Ah ok Stiamo stessi scherzando con Call of Duty No no Call of the Wild Call of the Wild Sì 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 60 giga di gioco Ecco vabbè Comincio a misa Un bacino Ci vediamo Grazie per aver subito a live Ci vediamo domani con il solito video E ciao a tutti cari Un bacino Ciao ragazzuoli Ciao cari